product placement direttamente senza shame body shame vediamo se il mio è più grosso e anche questa l'abbiamo fa questa marchetta a posto ragazzi sta cena ce la siamo portata a casa bene così davanti il prossimo vi vedo già belli caldi questa live non la perde c'è Gnesus ovviamente Gnesus vuole assolutamente sapere tutto di Dino Grandi va bene siamo qui a raccontare vita, morte e miracoli vediamo un po' vediamo un po' chi c'è ma intanto ciao Filippo questi sono i reduci questi li riconosci perché questi sono quelli che quando si parla di seconda guerra mondiale ci sono sempre perché avevano cominciato col canale proprio quando si parlava assurdo quelli storici quelli dei cinquemila iscritti iniziali esatto i miei cinquemila spartani dobbiamo andare avanti si riconoscono sempre i nomi sono sempre quelli ormai una famiglia stretta diciamo stretta e allargata quelli vecchi che seguivano fin da tempi non sospetti ecco poi oggi dei sette di cui parliamo due sono livornesi quindi ecco ma infatti guardavo perché io ho le foto sopra al monumento e quindi se ogni tanto sbuca qualcosa sono cose a sorpresa stamattina ho capito dopo mezz'ora eh ho capito ma non è colpa mia se capisci io sono responsabile di quello che dicono di quello che te capisci sei youtuber ogni tanto prosmata a volte manda le informazioni a volte non le manda è un po' un po' così a me capita su altri canali c'ho la campanellina a parte Giovanni che lui tanto è come un orologio svizzero ma no è un orologio svizzero perché li programmo quindi non è non mi prendo nessun merito ah perfetto li fai prima e li lasci poi che escono no allora la mia la mia strategia è quella li faccio il giorno prima e poi li carico per le 6 e 45 non è che mi sveglio a quell'ora per farli infatti mi sembra ma perché li carichi a quell'ora allora li carico a quell'ora per il semplice motivo che poi dalle 6 e 45 alle 7 ho il tempo di postarli sui varie pagine facebook poi dopo mi preparo per uscire vado al lavoro io ho una vita nella quotidianità ho una vita normale quindi diciamo che quindi c'è qualcosa oltre questo si beh come se ne esce ma infatti come vedete qui dietro al libro ci sono dei lego quindi c'è una famiglia con delle io vivo con tre donne siamo adesso per chi non lo sapesse tre donne una moglie due figlie quindi diciamo vediamo ma voi voi mi domandate il mio il mio sgabbuzzino lì dove faccio i video no è l'unico posto che mi è rimasto ma non è un sgabbuzzino cioè in realtà era una sala gigantesca solo che ormai di libri si è ridotto esatto sembra il si cosa mi ricorda a me guerra stellari bravo la scena di guerra stellari quella del compattatore esatto esatto proprio quella cosa lì infatti qui mi dicono sfondo la quarta parete il discorso dell'uscire dal monitor queste cose qui allora ci siamo io direi di cominciare proprio da da casa mia ecco da Costanzo eh direi da Costanzone iniziamo subito con Costanzo ecco Costanzo Ciano un personaggio rappresentativo io nella nella nel descriverlo nel capitolo ho iniziato il il capitolo facendo una una citazione una citazione di di Walter Chiari che negli anni settanta è una citazione molto nota magari non tutti sanno che è di Walter Chiari e Walter Chiari eh negli anni settanta in uno spettacolo teatrale tra l'altro a Genova quindi Genova una città diciamo con un anche dibattito politico tra fascismo antifascismo assai eh variegato eh affermava che eh sostanzialmente che Mussolini quando è stato appeso a testa in giù non gli sono cadute delle monetine e quindi diceva quale politico oggi potremmo potremmo paragonarlo a Mussolini visto che appunto qualsiasi qualsiasi politico a testa in giù eh cadrebbero tanti soldi dalle proprie dalle proprie tasche diciamo che una frase che poteva andare bene negli anni settanta ma potrebbe andare bene anche oggi il punto è che il paragone era sbagliato perché non è che il fatto che Mussolini non potessero cadergli delle monetine quando l'hanno appeso a testa in giù significava che il fascismo era era onesto anzi diciamo che da anche Hitler era abbastanza no non era uno molto sfarzesco diciamo non amava lo sfarze no no Gehring era esatto e quindi secondo me era questo questa citazione era particolarmente calzante per introdurre il il personaggio di Costanzo Ciano che non a caso veniva veniva soprannominato il ganascia per sì sì il ganascia per la sua per la sua proverbiale mania di mangiare ma mangiare anche sia sia in senso in senso vero in senso autentico mangiava proprio mangiava alimenti che mangiare in senso metaforico di di arraffare arraffare e e questo è sicuramente un elemento interessante per andare a a scoperchiare in realtà di studi negli ultimi decenni sono stati fatti molti sulla sul rompere quei quei luoghi comuni che vorrebbero il il fascismo non si dice non sta beh il fascismo è stato una dittatura è stato cruento è stato quello che vi pare però sicuramente è stato efficiente sotto l'aspetto burocratico e onesto sotto l'aspetto economico in realtà abbiamo scoperto che non era né efficiente sotto l'aspetto amministrativo burocratico né onesto qui diciamo c'erano tangenti ricatti arricchimenti illeciti di ogni di ogni natura e Costanzio Ciano rappresenta molto di questo di questo rapporto Costanzio Ciano che ebbe nella sua prima parte della della propria vita possiamo dire che fino lui era del del 76 fino alla alla prima guerra mondiale i suoi primi 45 anni diciamo così ha vissuto una vita professionale abbastanza normale seguendo una sorta di tradizione familiare il padre si occupava di navigazione una famiglia molto numerosa tant'è che ben tre figli della famiglia quindi lui più altri due fratelli entrarono nella carriera della reggia marina e quindi iniziarono un percorso professionale chi più chi meno in progressione fino ad arrivare all'appuntamento della grande guerra che li trovò tutte e tre particolarmente partecipi particolarmente anche in prima fila nell'esprimere una propria competenza tecnica e anche una certa valore militare tant'è che appunto nello specifico Costanzo Ciano anche nella sua connubio con D'Annunzio qui lo vediamo in una fotografia ebbe modo di di avere un certo successo diciamo che e lo anticipiamo subito il connubio tra Costanzo Ciano e D'Annunzio sarà molto simile a quello che avverrà venti anni dopo circa tra Galeazzo Ciano ed Ettore Muti perché esatto la beffa di Buccari ma non solo la beffa di Buccari è l'episodio più noto più famoso appunto che ha visto i due protagonisti ma in realtà poi Costanzo Ciano diciamo vi fu un reciproco che interessa perché Costanzo Ciano aveva capacità anche tecniche diciamo che era più l'arrosto e D'Annunzio diciamo offriva il fumo cioè c'era sia fumo che arrosto però diciamo Ciano scusate D'Annunzio e metteva l'elemento di propaganda di di conoscenza degli eventi mentre poi invece Costanzo Ciano metteva proprio l'azione vera l'azione quella più un uomo di mestiere insomma esatto esatto e la stessa cosa a parti rovesciate sarà appunto durante la guerra d'Etiopia quando Muti metterà la parte delle azioni vere il valore militare l'azione diciamo di grande protezza e dall'altra parte Galeazzo Ciano si diciamo beneficerà di questa di queste attività appunto mettendoci il fatto che era il genero del duce quindi troviamo spieghiamo un po' Buccari così sì 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 allora sì sì la beffa di Buccari come la 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 maggior parte delle imprese di grande valore della regia marina durante la prima guerra mondiale si basavano sull'utilizzo di mezzi leggeri perché perché anche nella seconda sì 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 però diciamo in particolar modo nella prima è una tradizione tutta nostra quella dei barattini delle miniatte ma sai nella prima guerra mondiale era una necessità perché perché ovviamente il mare adriatico era un mare chiuso nel senso che vi fu un blocco visto che era di appannaggio della della marina imperiale austro-ungarica e le marine alleate avevano deciso di chiudere attraverso il canale di Otranto una sorta di blocco navale che imbrigliasse sostanzialmente tutto il naviglio pesante della reggia della imperiale marina austriaca così da sostanzialmente renderlo inoffensivo cioè ci occupiamo solo di quelli tedeschi della naviglia tedesca e quello della Turchia e quello austriaco che in qualche modo a parte qualche sommergibile qualche unità che riusciva a sgattaiolare passando questo blocco però in realtà il grosso del naviglio era bloccato quindi ovviamente le attività della reggia marina erano legate non tanto alla battaglia decisiva che appunto nella anche perché era meglio evitare l'ultima volta non andò così bene sì 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 appunto per una serie di circostanze appunto sia perché appunto i precedenti memory di Lisa esatti i precedenti non erano dei migliori dall'altra appunto per un un discorso prettamente tattico nel senso che il naviglio il naviglio pesante austro-ungarico era prevalentemente sempre stanziato nei porti dei porti quelli della Croazia e della Dalmazia particolarmente difficili perché erano ben presidiati che avevano delle difese a terra molto solide e quindi attraverso lo sviluppo di appunto come dicevo di naviglio leggero che potesse basarsi su appunto i famosi mass ossia sostanzialmente dei motoscafi armati con degli armamenti con siluri con una serie di adesso non entro troppo nel dettaglio ma per capirci cioè riuscire a sviluppare una un tipo di combattimento mordi e fuggi che in qualche modo appunto permettesse attraverso la rapidità ossia quindi la sorpresa ma anche la capacità di manovra assai scelere ecco riuscire in qualche modo a avvicinarsi in maniera in maniera diciamo di soppiatto riuscire a colpire e quindi con la stessa velocità uscirne uscirne fuori e questo appunto rappresentò all'interno di che diciamo che strategicamente non aveva un grande valore nel senso che avendo già di fatto le navi che non uscivano dai porti non c'era un valore prettamente strategico nel in questo tipo di azioni sappiamo benissimo che la guerra l'Italia la vincerà sulla terra quindi diciamo l'elemento marittimo era assolutamente marginale ma diveniva un grande elemento propagandistico di coesione anche socio-nazionale che soprattutto appunto nell'ultimo anno di guerra sicuramente aveva la propria la propria importanza quindi questo che ci troviamo nel febbraio del 1918 diveniva sicuramente un elemento di grande rafforzamento nella costruzione anche propagandistica degli ultimi mesi del conflitto ecco quindi vedere come Costanzo Ciano attraverso appunto una serie di azioni tra l'altro lui beneficerà successivamente una serie di appellativi appellativi nobiliari Cortellazzo lo stesso sono delle località che appunto lo avrebbero reso sicuramente noto per appunto il suo passato militare tant'è che lui concluse la prima guerra mondiale pieno di medaglie carico di gloria e c'è qualcuno in maniera anche un po' sprezzante che afferma se ovviamente la storia non si fa con i sé ma diciamo ci piace in qualche modo anche cercare di ipotizzare degli elementi curiosi se Costanzo Ciano fosse morto all'indomani della prima guerra mondiale o semplicemente si fosse ritirato a vita privata senza nessun tipo di impegno politico probabilmente oggi avremmo in tutte le città una piazza una strada intitolata a Costanzo Ciano proprio per la sua notevole importanza notevole capacità di determinare nell'aspetto appunto soprattutto di azioni eroiche azioni appunto di grande immagine ecco un impegno un impegno militare di grande di grande rilievo in realtà però la storia sappiamo che andò diversamente e terminato il conflitto Costanzo Ciano iniziò un percorso diverso un percorso diverso che diciamo partendo da un suo una sua capacità gestionale di un certo livello nel senso che aveva fiuto sicuramente per gli affari anche se poi gli affari non è che gli andassero sempre bene nel senso che diciamo aveva soprattutto la capacità di trovare dei legami forti con la gente che contava riusciva a più che lo spirito prettamente commerciale aveva la capacità di relazione tale da riuscire a trovare credito sempre e comunque anche per il suo passato militare era un personaggio che oggi lo chiamerebbero un non so un traffichino sì un traffichino però legato al fatto di un certo spessore nel senso sì sì diciamo che si poteva avvantaggiare di un passato militare sicuramente che era un fiore all'occhiello poi che questo che questo suo credito patriottico poi fosse e lo vedremo gestito male nel senso gestito non con il senso dello Stato ma il senso del proprio portafoglio beh questo è un altro discorso e iniziò appunto a partire proprio dalla fine della della dal diciannove anche con degli appoggi della fiat diciamo che l'elemento interessante è come lo vediamo sempre anche parlando degli ambienti militari quindi abbiamo questo rapporto simbiotico tra gli ambienti politici e quelli militari come la grande industria fosse sempre intenzionata a trovare dei referenti di grande spessore in questo caso militare e poi politico che potessero in qualche modo avvantaggiare le famose commesse appunto siamo nel periodo anche della della smobilitazione della trasformazione eh industriale appunto dopo il periodo della guerra in cui appunto le commesse statali erano particolarmente fiorenti quindi era necessario anche in qualche modo trovare dei mercati eh diversi e ehm e Costanzio Ciano unì eh in maniera saggia appunto per il proprio interesse ovviamente eh questo carico di credito politico credito patriottico che egli aveva accumulato con la creazione di potentati di clientele locali che appunto avevano come centro Livorno Livorno che sappiamo essere un centro importante nella costruzione eh navale appunto con una serie di cantieri appunto anche legati alla le continue trasformazioni che ci furono nei nei grandi ehm nei grandi cantieri navali che in qualche modo pensiamo agli Orlando eh quindi tutta una serie di eh di realtà esatto esatto di di aggregazioni e di eh disgregazioni che in qualche modo cercavano sempre di trovare dei referenti che in qualche modo gli permettessero di stare sulla piazza perché poi lì il problema non era tanto la capacità eh tecnica nella produzione eh di 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 manufatti dell'attività cantieristica ma anche quella di trovare eh il referente giusto a livello politico che potesse in qualche modo diciamo avviare eh la le commisse Sai cos'era particolare Giovanni che riusciva a farsi mettere praticamente hanno messo un po' tutte le opere che venivano costruite a a Livorno no c'erano le colonie marine le vedete nei film perché una volta a Tirenia c'erano gli studios queste cose qui quindi infatti la terrazza che ora si chiama Mascanni se ti ricordi si chiama terrazza Ciano sì sì ma questo infatti è quello che che dicevo oggi appunto se Costanzo Ciano non avesse non si fosse compromesso con l'attività del fascismo oggi avremo una serie di 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 opere di di della toponomastica legate a lui se uno pensa che l'attuale piazza del Parlamento a Roma che sarebbe la piazza dietro Montecitorio la camera deputati ha la parte davanti che è piazza di Montecitorio la piazza dietro che si chiama piazza del Parlamento bene dopo la morte di Costanzo Ciano che avvenne nel 39 fino al 44 45 quella era piazza Costanzo Ciano poi venne venne cambiata e divenne piazza del Parlamento appunto per la inevitabile modifica della toponomastica di derivazione fascista e quindi tornando agli anni ai primi anni 20 Costanzo Ciano rappresenta veramente quell'anello di congiunzione tra il nazionalismo sappiamo come poi tra l'altro Livorno con una componente di sinistra particolarmente effervescente in quegli stessi anni nascerà almeno il congresso che si si svolse a Livorno il partito comunista quindi c'era anche una una certa sensibilità verso i temi sociali che ovviamente davano fastidio al potentato industriale capitalistico e quindi si unì questo doppio interesse dell'elemento prettamente nazionalistico a quello prettamente legato al capitale che portò quindi Costanzo Ciano a essere il referente ideale per quella componente della conservazione che decise poi gradatamente di avvicinarsi al fascismo e che diveniva elemento di doppia e di reciproco interesse nel senso che il fascismo che appunto nel periodo 20-21 stava cercando di rafforzarsi di trovare una propria collocazione anche con dei finanziatori perché poi l'elemento uno non ne parla mai o spesso viene dato per scontato ma il finanziamento dei partiti il finanziamento di strutture politiche è sempre importante soprattutto per movimenti e poi partiti come quello fascista che in qualche modo dovevano finanziare se stessi e trovare una propria collocazione anche all'interno della galassia del conservatorismo perché non era scontato sappiamo come poi dopo i nazionalisti e i fascisti si uniranno insieme ma anche questo non era assolutamente scontato e quindi proprio Costanzo Ciano diverrà uno dei referenti più autorevoli per Mussolini soprattutto perché appunto egli aveva anche un certo credito presso il Quirinale la sua esperienza pregressa militare lo aveva reso un personaggio gradito a corte e sarà uno dei componenti insieme a De Vecchi insieme a Federsoni quei grandi personaggi utilizzati spesso e poter da Mussolini per trovare quella sponda continua e necessaria al Quirinale che magari avrebbe creato qualche imbarazzo non che i rapporti tra Vittorio Moneterzo e Mussolini furono sempre idiliaci sappiamo benissimo che ci furono dei momenti di grave di grave frizione che per fortuna di Mussolini non portarono mai a una rottura repentina almeno fino ovviamente al 25 luglio del 43 però anche grazie a figure come quello di Costanzo Ciano riuscire in qualche modo a far sopravvivere il governo fascista e all'indomani della marcia su Roma anche Costanzo Ciano ebbe i suoi ulteriori guadagni guadagni soprattutto in termini di attività come incarichi inizialmente egli che ambiva al ruolo di ministro della marina che un ruolo però che venne attribuito all'ammiraglio da onde rebel per una serie di motivazioni di ordine istituzionale Mussolini non era ancora abbastanza forte dopo la marcia su Roma nonostante sappiamo i primi mesi furono espressioni di una maggioranza di coalizione quindi che doveva rendere conto anche a delle anime più istituzionalizzate come appunto nel caso dei due ministeri militari ossia quello della guerra attribuito a Diaz e quello della marina attribuito all'ammiraglio da onde rebel e nonostante ciò comunque anche Ciano ebbe la sua la sua gratifica perché inizialmente venne nominato sottosegretario alla stessa reggia marina ma allo stesso tempo iniziò per lui un percorso alternativo ossia ebbe inizialmente la delega per la marina mercantile una 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 delega importante fondamentale che gli aprì poi nel nei mesi a seguire tutta una serie di altre attribuzioni che sostanzialmente unite insieme divenne quello che divenne poi il ministero delle comunicazioni e il ministero delle comunicazioni era un ministerone nel senso che univa a sé sia i trasporti quindi anche le ferrovie e capiamo come lo sviluppo industriale partiva anche dall'elemento dei trasporti quindi tutto ciò che legava il trasporto sia marittimo che quello ferroviario il trasporto stradale ancora non aveva una propria importanza anche poi condivisa da diciamo da altri ministeri però diciamo che l'elemento delle ferrovie sicuramente era di grande importanza e grande sviluppo con anche la gestione delle relazioni con i ferrovieri quindi questo divenne anche un elemento importante per tutta quella serie di costruzioni del parastato dell'attività sociale legate ai ferrovieri quindi anche qui abbiamo l'idea di poter creare delle clientele del diciamo un bacino di utenza vicino allo stesso ministro Ciano e dall'altra parte l'elemento delle comunicazioni era espresso attraverso le poste e il telegrafo ma anche la radio quindi tutti questi elementi che uniti insieme creavano veramente tanti temi tante materie in cui il vecchio Ciano potesse in qualche modo esprimere la propria capacità di mediazione e anche la propria capacità di gestire appalti e questo sarà un elemento fondamentale perché appunto gli appalti sulle ferrovie gli appalti sui telefoni gli telefoni che stanno si stanno sviluppando la loro attività anche nell'utilizzo delle utenze private quindi ecco come Ciano iniziò a accumulare materie di interesse e quindi accumulare potere e quindi accumulare soldi e questo sarà l'elemento portante per tutta la sua carriera appunto dal periodo del 22 fino al 39 quando morì in questi 17 anni sostanzialmente diverrà un po' l'elemento di continuità e di arricchimento economico e sociale un arricchimento che si andò poi consolidando quando il figlio il figlio prediletto Galeazzo che aveva delle velleità di varia natura era voleva fare il drammaturgo scriveva opere poi ne parleremo ma che appunto non hanno avuto molto successo no non hanno per niente successo e che ma era un po' artista un po' anche timido nei rapporti era un po' riservato poi ne parleremo di Galeazzo Ciano che visse la sua infanzia e adolescenza combattuto tra un padre autoritario come poteva essere Costanzo Ciano la madre molto più amorevole si trova in mezzo e per la necessità di accontentare questo padre molto esigente molto padre padrone si lanciò anche egli nella vita pubblica inizialmente provando la carriera diplomatica una carriera diplomatica che venne anche ovviamente spinta da questo genitore particolarmente potente nel regime fino ad arrivare appunto alle nozze con con Edda con Edda Mussolini e quindi qui si va a creare il matrimonio il matrimonio del regime per l'antonomasia che univa a sé appunto la famiglia di Mussolini appunto la famiglia del capo del governo con la famiglia di un eroe di guerra come appunto era Costanzo Ciano e che nel frattempo aveva anche accumulato tutta una serie di ricchezze e di potere effettivo guarda mentre te parli non approfitto per guadagnare tempo perché poi bisogna accelerare Giovanni nel senso 15 una roba del genere questo è lo stato abbiamo quasi finito abbiamo quasi finito questo è lo stato in cui è diciamo il monumento a Ciano tra l'altro lo dico il video è di Urbex ci puoi salire cioè ci puoi arrivare in cima però è messo insomma l'hanno lasciato veramente allo sfacelo però è in una bellissima posizione perché praticamente è in cima alla collina vista mare è un cubo io te lo dico una volta a Livorno avevano proposto non sto scherzando di trasformarlo nel deposito di Paperone dei Paperoni perché più o meno ha quella forma lì beh diciamo che l'abbinamento non è casuale nel senso che lo stesso lo stesso Vittorio Emanuele III quando dopo la morte di Ciano di Ciano Costanzo venne a sapere l'eredità che i figli stavano incamerando sembra che appunto sia Vittorio Emanuele III che Mussolini praticamente si stupirono perché non erano consapevoli che ci fosse tutta questa ricchezza che il vecchio Costanzo si fosse arricchito così tanto quindi anche agli occhi agli occhi dello stesso Mussolini di Vittorio Emanuele III sembrava una un'eredità sproporzionata rispetto a quello che quello che che si andò a sviluppare su Cianetti sì Cianetti ne parleremo ne parleremo nella prossima nella prossima diretta non vogliamo spendere due parole qui non lo so dimmi tu andiamo alla prossima tanto alla prossima sì su Cianetti su Cianetti diciamo stiamo stiamo diciamo seguendo l'ordine diciamo organico l'ordine per diciamo argomenti del mio del mio volume e Cianetti sarà nel blocco prossimo del dei gerarchi per tornare a Costanzio Ciano Costanzio Ciano quindi visse questo l'ultima parte della sua vita morire nel 39 appunto accumulando tutta una serie di altri incarichi fu tra l'altro presidente della della Camera dei Fasci delle Corporazioni nel 39 fu lui a essere l'ultimo presidente della Camera dei Fasci delle Corporazioni e scusate l'ultimo presidente della Camera dei Deputati e poi il primo della Camera dei Fasci delle Corporazioni quando venne ridenominato nel 39 con una riforma che svuotava ancora di più l'elemento rappresentativo ecco infatti rappresentativo della Camera della Camera elettiva sì elettiva diciamo così diciamo anche se poi di fatto dal 29 in poi le elezioni erano abbastanza blindate per la Camera dei Deputati e la la morte la morte curiosa di 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 Ciano avvenne nel 27 giugno del 37 no scusate scusate no nel 39 quando la gli venne una sorta di colpo mentre guidava e le cause vennero vennero riscontrate sia nella nella nell'affanno nella propria capacità sempre di aveva anche delle amanti era molto vecchio ma si dava da fare quindi l'elemento aveva aveva mangiato la sera prima in maniera vorace quindi diciamo una somma di motivi che appunto a una certa età mangiare troppo andare con le donne non so che cosa facesse con le donne però diciamo a una certa età ci può ricordare qualche altro personaggio a noi più vicino comunque ad ogni modo questo personaggio finì la sua vita gaudente nel senso tra mangiate e attività erotico sessuali e quindi diciamo lo si ricorda e il pensiero vola a certi personaggi esatto e quindi venne la sua morte portò una serie di di celebrazioni considerate che nell'anno successivo alla sua morte venne realizzate mi pare 5 o 6 5 o 6 biografie a lui dedicate tra l'altro una biografia scritta addirittura da Farinacci Farinacci scrisse una biografia di di Costanzo Ciano e una serie di attribuzioni di intitolazioni eccetera e creò appunto anche la necessità di trovare un sostituto alla 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 camera dei fasci delle corporazioni poi venne individuato in Dino Grandi e ad ultimo possiamo dire che Costanzo Ciano per un periodo quando era vivo venne individuato da Mussolini come il suo possibile sostituto in caso di morte nel senso che qualora Mussolini fosse morto improvvisamente Costanzo Ciano sarebbe stato il suo sostituto poi morì prima Ciano e quindi diciamo questo elemento non si andò a realizzare e però aveva lasciato quasi in eredità al figlio Galeazzo che tra l'altro appunto era anche il genere di Mussolini la possibilità in qualche modo di creare delfini però diciamo che anche in questo caso Mussolini amava far credere un po' a tanti che ci sarebbe stato un delfino e magari attribuirlo a uno e l'altro però in realtà non venne mai a crearsi un delfino che potesse in qualche modo sopravvivere allo stesso Mussolini appunto la storia poi ha confermato questa cosa appunto che il fascismo è morto sostanzialmente almeno fascismo istituzionale insieme a Mussolini io passerei al prossimo così Guido Buffarini Guidi un altro personaggio particolarmente curioso passiamo da Livorno a Pisa e quindi sappiamo come lo scontro tra Livornesi e Pisani è particolarmente agguerrito ma quando si parla di quattrini non si guarda in faccia a nessuno e quindi quando si parla di quattrini anche le alleanze si possono creare tra Pisani e Livornesi meglio un morto in casa che un Pisano in luce però quando si tratta appunto di fare affari e Buffarini Guidi che visse una sua carriera prettamente locale nel primo periodo della sua vita lui fu anche potestà di Pisa ebbe una serie di incarichi sia a livello di partito che a livello anche politico nella realtà della propria della propria città trovò la sua piena sì sì infatti e no pensiamo che quest'uomo è stato praticamente dal 33 al 43 per dieci anni il dominus del ministero degli interni ecco già che ci offre sappiamo che il ministero degli interni è un ministero di grande appeal appunto non ultimo per fare dei riferimenti con l'attualità che persone vogliono fare il ministro degli interni perché il ministro degli interni è qualcosa di rilevante sotto l'aspetto di gestione pensiamo come Cossiga Cossiga che era amante dei delle divise amante del mondo militare non ha mai ambito a fare il ministro della difesa no preferì a fare il ministro degli interni perché dice il ministro degli interni gestisce i carabinieri la polizia e va a arrestare tutti gli altri quindi ecco come il ministero degli interni era anche una vecchia tecnica sovietica cioè i sovietici per prendere il potere entravano facendo un partito comunista in vari paesi poi dicono no a noi serve solo un ministero esatto quello degli interni poi facciamo da soli esatto e buffari liquidi è sostanzialmente l'espressione plastica di questa di questo concetto tra l'altro scalzando un personaggio onesto intellettualmente come deve essere Leandro Arpinati Leandro Arpinati di cui abbiamo parlato nella precedente diretta che appunto possiamo Leandro Arpinati potremmo accusarlo di tante cose ma non che fosse onesto intellettualmente ebbene buffari liquidi era esattamente il contrario buffari liquidi riuscì ad essere confidente e amante no amante scusate confidente e collaboratore sia di Clara Petacci che di Rachele Mussolini diciamo dava era equi vicino uno direbbe no equi vicino a tutti quanti per cercare in qualche modo di carpire segreti carpire clientele e tant'è che questa cosa creava anche un certo imbarazzo allo stesso Mussolini il fatto che se la intendesse non a livello sessuale ovviamente ma diciamo come confidenze sia con l'amante sia che con la moglie di Mussolini e quindi in qualche modo creava e Mussolini se lo teneva buono ecco perché se lo teneva buono per dieci anni come sottosegretario al ministero dell'interno perché Mussolini poi in maniera scaltra di alcuni ministeri chiavi teneva la titolarità e teneva la titolarità per un lungo periodo è stato contemporaneamente oltre al primo ministro anche ministro della guerra della marina dell'aeronautica dell'interno degli esteri delle colonie perché perché delegava i sottosegretari dell'attività facente funzione ma gli impediva di parlare con gli altri ministri perché era era solo il ministro che poteva interloquire con gli altri ministri visto che era lui sempre ministro quindi i sottosegretari tra di loro non 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 si non si poteva non potevano avere delle relazioni dirette sotto l'aspetto di collaborazione e quindi Buffarini Guidi portò avanti una gestione abbastanza diciamo alle grotta del ministero diciamo cercando anche di di intavolare del delle clientele sia a livello centrale che a livello locale e l'analisi di Buffarini Guidi ci permette di introdurre un argomento molto importante nella comprensione del sistema accentratore e di controllo del regime fascista mi spiego allora il il regime fascista e in particolare il mondo Mussolini aveva il concetto di anteporre lo Stato al partito mi spiego il partito che ebbe un'importanza variabile nel corso del 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 ventennio non doveva secondo la mentalità di Mussolini non essere un centro di potere autonomo nel senso che non doveva essere utilizzato per la determinazione della politica ma doveva invece avere il ruolo di cinghia di trasmissione tra la società e lo Stato perché solo lo Stato aveva il compito di gestire i grandi temi della politica nazionale e questo però questo questo elemento di contrapposizione creava un sacco di problemi soprattutto nelle province perché perché nelle province si sovrapponevano il ruolo di prefetto che è la propagine locale del ministero degli interni e il federale il federale che invece è la propagine locale provinciale del partito nazionale fascista e ovviamente nelle realtà molto distanti pensiamo appunto quelle del mezzogiorno ma anche del settentrione quindi che erano geograficamente più distanti da rome bene capite bene che le problematiche locali e soprattutto anche la gestione stessa dei feudi di potere erano uno scontro all'ultimo sangue tra il prefetto e il federale perché ognuno dei due cercava di primeggiare sull'altro beh l'impostazione che Mussolini aveva dato sia la preminenza dello Stato quindi del ministero dell'interno rispetto al partito crea però delle gelosie anche a livello centrale tant'è che nella nella diciamo tra il 33 e il 39 diciamo così lo scontro più furente potremmo dire tra i gerarchi avvenne tra Buffarini Guidi che era titolare appunto del ministero degli interni e Starace che era il segretario del partito e quindi si andò a creare un grosso scontro che però sostanzialmente vide vincitore Buffarini Guidi perché Buffarini Guidi che era Sornione che era uno appunto che gestiva tutto attraverso ricatti attraverso l'utilizzo di dossieraggi pensiamo come lui fu anche l'artefice almeno l'artefice sotto l'aspetto burocratico a partire dalla fine del 38 dell'applicazione delle leggi razziali quindi lui se ne occuperà fino al febbraio del 43 e poi continuerà ad occuparsene durante la Repubblica Sociale Italiana perché diverrà anche durante la Repubblica Sociale Italiana ministro dell'interno quindi un personaggio particolarmente tenebroso particolarmente interessato anche soprattutto al proprio tornaconto personale che diveniva funzionale a Mussolini perché era temuto da molti ma purtroppo per Mussolini era temuto anche dallo stesso Mussolini quindi se lo teneva buono perché c'era un ricatto reciproco e quindi sapeva che quando fosse stato necessario colpire qualcuno dare l'incarica a Buffalini quindi sicuramente avrebbe colpito bene e diciamo che Buffalini Guidi poi si occupò personalmente di colpire numerosi segretari del partito tra cui per esempio Serena ecco vediamo questa foto che a me mi inquieta particolarmente perché vedere Buffalini Guidi a braccetto con Himmler ci evidenzia che dimmi con chi vai e ti dirò chi sei ecco io non lo so tra i due chi era più temibile Gianni o Pinotto eh non lo so diciamo che tra i due non lo so più pulito c'ha la rogna qui esattamente esattamente quindi diciamo è una grossa è una grossa con la regina Elena è perché lui stava lui stava sempre in mezzo a tutti stava insieme vicino a tutti sai come dice Frecciero l'alto e il basso in qualche modo e quindi lui in qualche modo era confidente con quest'aria un po' da bonacciona diciamo così riusciva a carpire tutte le 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 confidenze le attività e gestiva i prefetti in maniera molto molto ballerina toglieva quelli che non gli piacevano vabbè li spostava con punizioni eccetera quindi e quindi diciamo che ci offre sdoganiamo l'LGBT dai questo che siamo in tema abbracciato sì infatti infatti e quindi arriviamo alla sua defenestrazione nel febbraio del 43 quando nel febbraio del 43 vi fu uno dei grandi rimpasti del governo l'ultimo grande rimpasto possiamo dire del governo Mussolini e questa 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 situazione lo portò a non partecipare alla alla al voto del del 25 e no scusate no partecipò comunque alla alla mi ricordo sai Giovanni don peppone sì no comunque partecipò perché era era membro come membro della della del gran scusate del uno dei dei membri di diritto del gran consulio del fascismo quindi partecipò votando contro all'ordine del giorno grandi e questa cosa fu un titolo di merito per 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 essere recuperato durante la Repubblica Societaliana e anche qui però creò notevoli problemi perché ovviamente c'era lo scontro sia tra i vari gerarchi pensiamo appunto alla alle 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 gelosie dell'ordine pubblico perché c'era il discorso della GNR che dipendeva dal partito c'era la polizia che dipendeva appunto da 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 buffarini guidi c'erano le forze armate propriamente dette che dipendevano da graziani oltre a tutte le varie polizie o o corpi militari che dipendevano direttamente da tedeschi pure quindi quindi pure qua la situazione era particolarmente caotica e e buffarini guidi cercava sempre di gestire le cose attraverso un po' il compromesso e la gestione eh un po' alle grotta del dei soldi e del potere finì che pure qua eh alla fine venne defenestrato nel febbraio del quarantacinque e quindi visse gli ultimi mesi della Repubblica Societaliana senza particolari incarichi però diciamo che aveva tanti 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 addebiti precedenti tant'è che appunto quando finì la il conflitto venne venne a venne acciuffato venne arrestato dal dal dai liberatori dalle forze patriottiche eh i della della resistenza e eh venne al fine eh fucilato venne fatto un processo diciamo che formalmente corretto sotto l'aspetto procedurale eh rispetto ad altri che magari ebbero dei processi molto più sommari eh di di lui pensiamo a Starace pensiamo a a Pavolini che vennero sostanzialmente presi e messi al muro diciamo così eh lui ebbe comunque un dibattimento diciamo abbastanza abbastanza regolare fino appunto a una condanna eh a morte abbastanza rispetto a molti altri che vissero male e morirono bene con dignità Buffaniquiti morì pure male nel senso che mh fu l'ultimo uno degli ultimi no? sì sì nel nel sì sì nel giugno aspetta quando è che è morto nel uno degli ultimi 10 luglio 45 tra l'altro appunto eh chiedendo chiedendo pietà veramente fece ebbe modo di di morire senza dignità nel senso cercando di eh di trovare una grazia che non qui ci chiedono se quel diavolo di Farinacci venne fucilato sì sì venne fucilato adesso adesso ve lo dico aspetta eh Farinacci Farinacci adesso vi dico quando è stato fucilato eh il il 28 aprile del 45 ecco proprio il giorno del il giorno quando morì Mussolini venne anche lui eh fucilato e diciamo visse pure lui i momenti insieme a a tutti gli altri che erano rimasti in qualche modo fedeli a Mussolini appunto le stesse nelle stesse ore morì Pavolini Farinacci eh Starace in modo diverso ovviamente ma eh in qualche modo accomunati tutti quanti dalla da 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 dalla fine inevitabilmente non potevano finire eh diversamente da da Mussolini che era stato il loro guarda Giovanni per citare uno youtuber che io seguo perché è motociclista si chiama Spavald quelli ormai avevano la vita scritta a matita sì allora il punto il punto è il punto è essendosi macchiati di un elenco di di veri e propri crimini perché poi appunto di tali crimini stiamo parlando eh di eh bassezze eh gratuite di qualsiasi tipologia ma ma gli stessi tedeschi li avrebbero messi al muro nel senso che erano talmente invisi lo stesso Buffalini Guidi quando venne destituito nel febbraio del 1945 dalla dal ruolo di ministro eh del degli interni furono i stessi tedeschi a gioirne perché era divenuto particolarmente scomodo particolarmente eh difficile nei rapporti capito i tedeschi volevano delle delle pecore della gente che in qualche modo li assecondasse e che gli garantisse la prepotenza trovare un prepotente che in qualche modo era competitore rispetto alla loro prepotenza era scomodo pure per loro quindi cioè nascevano delle sorte di competizione chi era più prepotente chi era più cruento chi era più malvagio poi l'abbiamo visto anche l'altra volta molti venivano uccisi anche nel dopoguerra perché comunque c'era un sacco di vendette venivano presi anche nel dopo cioè queste vendette continueranno anche nel 47 nel 48 c'era sempre qualche gerarca che veniva inforchettato da qualche parte più che gerarci più di basso di basso di basso quelli locali esatto diciamo che quelli di altissimo livello o vennero giustiziati immediatamente o erano in Spagna esatto o contestualmente alla liberazione stiamo parlando intorno al 25 26 28 aprile stiamo lì o nel caso i buffarini guidi che venne venne fucilato dopo tre mesi ma gli altri bene o male riuscirono in qualche modo a fuggire o ebbero delle pene relativamente modeste rispetto agli addebiti che potevano un Graziani no? un Graziani che poi alla fine fece neanche dieci anni di carcere cioè ne fece veramente pochi e poi grazie anche alla messa salutiamo te Mike eh sì che sta in diretta dall'altra parte si ma gli fischiano le orecchie come sempre i graziani capito? esatto e quindi un personaggio potremmo dire quasi diabolico buffarini guidi che diciamo reggeva la propria la propria autorità sul sotterfugio sul sul ricatto continuo sul dossieraggio e gli stessi tedeschi molto spesso lo temevano perché appunto non sapevano era era ingestibile era non era accomodante come magari molti altri e non era accomodante come Renato Ricci di cui hai fatto vedere la foto poco fa che è un altro personaggio particolarmente interessante anche questo è toscano vedi stiamo facendo un un come si dice ma sembra che è colpa nostra cioè sembra che è colpa poi avremo poi parleremo tutti i toscani parleremo di grandi parleremo di 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 bastianini quindi casualmente sono capito tre toscani una pressa all'altra e uno peggio dell'altro e Renato Ricci di Carrara e Renato Ricci è veramente diciamo come possiamo dire l'espressione tipica del mediocre allora era un personaggio che non aveva grosse qualità nel senso che non aveva un era ragioniere non è che non che abbia ragionieri per carità di dio nel senso che non aveva delle competenze tali da permettergli di emergere questa è una foto che ha postato in rete il figlio che ha fatto un blog dove racconta un po' la storia del padre adesso mi prenderò una denuncia dal fio perché ho detto che il padre era un mediocre era un mediocre nel senso che non non gli si potesse normalmente non gli sarebbe non gli avremmo attribuito nessuna competenza per fare il ministro per dire cioè non è che che avesse tutte queste attività tali che lo rendessero caratterizzante però poi alla fine lo troveremo che farà il sottosegretario dell'educazione nazionale farà il ministro delle corporazioni quindi diciamo dei ruoli tecnici è pieno di video di lui che apre scuole di Balilla tutte a Carrara Massa queste zone esatto oltre al fatto che abbinato per tanti anni il ruolo di sottosegretario che è sta roba che è sta che hai messo è il mio utente più assiduo ecco lui torna sempre non riuscivo a capire e dicevo abbinò e questo in questo Mussolini era un furbacchione nel senso che mise sto facendo un escursus davanti poi torniamo un attimo indietro ma mi sembra funzionale visto che hai citato il discorso alla Tarantino esatto dell'opera nazionale esatto l'opera nazionale di Balilla ti racconto prima come muore la gente e poi dopo come si è formata chi gli ha sparato e dicevo Renato Ricci ebbe per un lungo periodo il doppio ruolo di sottosegretario all'educazione nazionale e fu sottosegretario di due pezzi da 90 dell'educazione nazionale italiana ossia Giuseppe Bottai e Cesare Maria De Vecchi quindi due gerarchi politici molto di peso all'interno degli equilibri del regime e quindi Renato Ricci venne messo sia come contraltare affidabile era un uomo anche lui diciamo alternativamente ricattabile che aveva avuto degli interessi non da poco nella fabbricazione dei marmi di Carrara e qui arriveremo ne parleremo dopo ne parleremo dopo anche lui del traffichino esatto di quello che ha fatto prima e però appunto aveva questo ruolo diciamo intermedio diciamo sottostante al ministro però che abbinava il ruolo di organizzatore dell'opera nazionale Balilla che appunto si occupava della formazione delle delle giovani leve che poi sarebbero arrivate nel partito quindi aveva un ruolo a mezza strada tra aspetto governativo quindi come sottosegretario ma anche legato a un'attività prettamente partitica e quindi capiamo bene come questo elemento che diciamo prima di Mussolini che cercava di rendere conflittuale ma distinto il rapporto tra ministero tra governo e partito però in realtà poi si andava a diciamo a unire insieme perché avevano dei ruoli nella stessa persona che in qualche modo facevano concorrenza a loro stesse tant'è che appunto poi dopo entrò Ricci in competizione con Starace proprio per la gestione della gioventù dell'educazione appunto in questo caso Ricci poi nel 37 perderà la titolarità della dell'attività ludico ricreativa così della delle giovani generazioni che poi passerà alla gioventù era un operaio della estrazione dei marmi quindi potremmo dire che aveva una estrazione diciamo proletaria che non nessun nessun sospetto ci avrebbe indotto a credere che Renato Ricci potesse porsi alla testa o quantomeno al fianco dei dei signori del marmo invece grazie alla progressione che fece nella nel feudo di Carrara e quindi capiremo come soprattutto in Toscana questa è la colonna Mussolini ma ci arriveremo ci arriveremo a questa cosa come il fascismo si rafforzerà con la lo sfruttamento dei potentati dei clan dei cosiddetti rassati del rass nelle varie nelle varie province soprattutto della Valle Padana pensiamo appunto alla bassa Lombardia all'Emilia alla Romagna al basso Veneto ma anche della provincia Toscana quindi ecco abbiamo visto parlato di Livorno abbiamo parlato di Pisa parliamo di di Carrara con Ricci in un'altra nostra diretta parleremo di Lucca con Scorza e quindi abbiamo questi elementi di grande importanza in cui appunto in questo caso l'elemento portante è legato all'estrazione del marmo a tutto ciò che arriva intorno al monopolio o diciamo all'olicopolio dell'estrazione del marmo e a questo punto capiamo pure bene perché il marmo ha avuto così tanto successo nell'architettura fascista perché in qualche modo era un una un tipo di commercio legato a un tipo di clan di potentato provinciale che era di cui era afferente Renato Ricci e in questo caso egli fu l'artefice della dell'estrazione e di tutto quello di tutta quella liturgia perché lo famoso berisco appunto che ancora oggi è visibile davanti allo stadio olimpico di Roma fece una sorta di viaggio di 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 simbolico di di percorso appunto attraverso appunto le sicuramente lo troverai su 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 internet c'è questo video dell'istituto luce che che vede dei delle coppie di buoi che che traiano questo questo pezzo di marmo che lo portano fino al mare che lo caricano su una chiatta che vi che arriva a fiumicino ehm e inizia a a a ripercorrere in senso inverso il tevere fino ad arrivare appunto a quello che era il il foro Mussolini quindi diventa il marmo anche attraverso l'opera con i potenti mezzi dell'ovra siamo riusciti ad arrivare il contributo ecco eccolo qua è questo qui questo questo monolite che eh tutta questa storia dei dei buoi che tirano il questo pezzo di marmo che che questo tanto che parlo lo lo vedete no questo questa cosa che diveniva una sorta di celebrazione eh quasi di osmosi tra eh la la creazione attraverso il marmo di un'entità nuova eh architettonica eh monumentale eccetera ma anche attraverso la figura di Ricci come eh creatore del della gioventù no? Creatore di una entità di fascista dalla dall'infanzia fino alla maturità quindi l'elemento non è casuale il il confronto appunto tra la materia grezza del marmo che diventa obelisco alla materia grezza dei dei ragazzi dei bambini che in qualche modo diventano il marmo no? che rappresenta la durezza del fascismo esatto eh ma non no c'è no c'è tutta un'allegoria cioè anche l'architettura che è nata che è nata nell'epoca del fascismo poi verità andava a riprendere quella inizio novecento è fatta proprio per un discorso di forme squadrate nette chiare ma anche l'appunto la creazione il fascista vuole essere schietto no? una cosa ma questo nasce anche al fatto che molte delle eh delle ehm delle palestre delle varie case del fascio fossero appunto eh agghindate con il marmo c'è stata ultimamente una polemica qui a Roma perché nella zona di Trastevere c'è un la la come si chiama la una sede della GIL e c'è scritta ancora GIL fuori ancora e la non so se la la regione Lazio voleva trasformare questo palazzo e diciamo utilizzarlo per attività ricreative e quindi volevano utilizzare eh WeGIL NoiGIL appunto scioccamente forse non so se l'hanno fatta apposta però non voglio sperare di no spero che sia ignoranza non si sono resi conto che GIL non è un nome qualsiasi è gioventù italiana dellittorio quindi come se in Germania guarda non volendo fare il cattivo la seconda che hai detto è più probabile guarda è nata è nata recentemente una raccolta firma eh tramite anche la società italiana di studiosi di storie contemporanee per cercare di abbiamo scritto a al governatore del Lazio che poi è Zingaretti quindi diciamo che dovrebbe essere sensibile a diciamo a contro il revisionismo si spera ma non è che si spera dovrebbe per una questione di formazione culturale invece no ci sono degli scivoloni eh e cioè neanche la Polverini o o storace avevano usato tanto nel nel contesto della regione Lazio però appunto ci rendiamo conto che c'è tanta ignoranza c'è tanta ignoranza sotto al sole e quindi eh bisognerebbe approfondire questi personaggi e quindi eh possono non voglio arrivare al concetto della dell'abbattimento del del foro attuale foro italico allora foro Mussolini perché se all'epoca i partigiani stessi l'hanno lasciato in piedi diciamo a questo punto non possiamo oggi abbattolo perché intorno allo stadio olimpico di Roma è tutto un tripudio di di racconto fascista che in qualche modo è anche la testimonianza di un'epoca e comunque ad ogni modo dicevamo di Ricci Ricci che appunto anche egli vive fasi alterne della propria carriera l'abbiamo abbiamo abbiamo lasciato nel trentasette che perde i suoi incarichi per colpa di di Starace che in qualche modo si appropria della parte della gioventù dell'educazione della della gioventù Starace come la sabbia eh cioè va a rompere le scatole a tutti esatto però poi alla fine pure lui pagherà il prezzo del di essere in viso a tutti e nel trentanove quando viene liquidato e si insedia il cosiddetto gabinetto Ciano quindi una sorta di di repulisti eh ministeriale in cui Ciano mette una serie di suoi protetti in questo caso non solo Toscani che mi mette per esempio alla alla segreteria del del partito ci mette Muti che è romani che era romagnolo e torna in auge eh lo stesso Ricci che appunto viene incaricato di fare il ministro delle corporazioni eh nello stesso periodo in cui nasce a pochi mesi prima era nato la camera dei fasce delle corporazioni quindi si sperava in qualche modo di abbinare la l'introduzione di una nuova diciamo camera rappresentativa a a a tendenza corporativa con un nuovo ministro delle corporazioni peccato che che Ricci di economia di economia eh anche sindacale o comunque di non ne sapeva assolutamente nulla a parte quello che aveva svolto appunto eh seguendo i potentati e le clientele della eh dell'estrazione del marmo tanto è che il suo impegno come come eh prima sottosegretario e poi come ministro della delle corporazioni sarà assolutamente incolore anche perché poi dopo pochi mesi eh l'Italia entrerà in guerra quindi il ruolo delle corporazioni sarà annacquato da mille altre eh di mille altre eh problematiche come molti dei gerarchi parteciperà alla alla campagna di Albania eh scusate nella campagna di Grecia la quella quella tra l'Albania e la Grecia eh è che rispondo a una cosa eh si attendo Graziani no i generali di Mussolini c'è già una trilogia di video che potete andare travi lì sono sei o sette ore quindi sì oltre al fatto che ho fatto anche un un video specifico su Graziani quindi parlo anche pro prodomo mia se volete volete sentirmi parlare di Graziani ho fatto un video di 40 minuti in cui parlo solo io di Graziani quindi diciamo che tra l'altro è il video più visto del mio canale quindi è il più gettonato eh e quindi è anche sì ma allora metà delle visualizzazioni in quel video sono Mike mettiamolo in chiaro sì probabilmente che se lo riguarda e lo riguarda comunque ad ogni modo Ricci e chiudiamo con Ricci Ricci qui è il periodo salò cioè guardia nazionale repubblicana sì allora Ricci anche lui anche lui perde lo scettro nel 43 con la la caduta del cosiddetto gabinetto Ciano il febbraio del 43 e lo ritroviamo nella Repubblica Sociale nella Repubblica Sociale in cui eh torna un po' ai primordi diciamo si rinteressa anche della gioventù tant'è che appunto quelli quelli che i bambini e ragazzi che ha allevato negli anni venti e negli anni trenta sono cresciutelli e in qualche modo molti di questi li trova nella Repubblica Sociale italiana occupandosi diciamo della quella che era la milizia e poi diventa la guardia guarda questo è importante nonostante io uso sempre la camicia nera ma non c'è nessuna relazione che mi snellisce diciamolo ehm l'antifascismo è un dovere esatto ma se vuoi non puoi odiare qualcosa che non conosci quella ignoranza sì 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 questo quindi è importante sapere da dove veniamo quali sono le magagne eccetera in modo da non ripetere quindi motivo anche perché si parla di gerarchi come no di generali ma infatti l'obiettivo l'obiettivo che mi mi sono posto oltre a voler completare l'opera che ho fatto con il libro sui generali e è interessante il fatto che siamo ormai alla vigilia del centenario della marcia su Roma che ci sarà fra pochi giorni è utile che in questi mesi stiano uscendo tanti libri sul fascismo ma non sono libri di esaltazione non sono libri per osannare la marcia su Roma anzi dovrebbero essere alcuni fanno schifo ammettiamolo diciamo non facciamo nomi se no prendiamo qualche denuncia però diciamo che alcuni libri mi dissocio mi dissocio di grande di grande qualità e in qualche modo cercano di di darci di darci un il senso più ampio della della di cosa fu il fascismo perché se no poi pensiamo sempre a era solo Mussolini tutti gli altri in qualche modo erano soggiocati beh no diciamo che Mussolini da solo probabilmente avrebbe fatto poco se non c'era no è lui che usa le mie e appunto personaggi come questi che in qualche modo hanno fiancheggiato hanno usato e sono fatti usare per oltre vent'anni comunque diciamo di Ricci che torna nella 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 Repubblica Sociale però anche qui come dicevo come dicevo prima con Buffarini Guidi anche Ricci entra in quel ferocissimo scontro tra diverse competenze tra l'ordine pubblico e la difesa militare e quindi all'interno della dello scontro cruento con il segretario del partito Pavolini con Graziani ministro della difesa con Buffarini Guidi ministro degli interni diciamo che anche egli poi alla fine diciamo è un po' il vaso di coccio all'interno di vasi di ferro e quindi perde anche lui la la diciamo la la competizione e quindi viene estromesso rispetto a tanti altri riesce a sopravvivere a alla guerra in qualche modo si riesce a a come si dice a nascondere a del delle attività un po' diciamo di di occultazione e quindi in qualche modo diciamo fa fa alcuni mesi di detenzione ma poi riesce in qualche modo anche lui ad essere graziato dall'amnistia togliati quindi morirà negli anni cinquanta senza grossi altri addebiti sostanzialmente anche perché diciamo rispetto a del a tante altre a tante altre responsabilità venne venne si no a riciclarsi no 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 a riciclarsi a riciclarsi scusa scusa non la volebbe Greg allora il tuo pubblico è veramente un pubblico di attenti e anche di buon temponi che che non che non guasta e di fine umorismo no e soprattutto poi tu li ripaghi della stessa moneta perché poi ci metti le foto dei guzzanti e però se ne accorgono che li vuoi fregare quindi diciamo che diciamo che vai rubare a casa del ladro e comunque andiamo a Dino Alfieri visto che hai già messo la foto prima di Dino Alfieri tutto pronto tutto pronto Dino Alfieri è un personaggio che a me veramente fa sorridere cioè se uno non fosse tragico sarebbe comico nel senso che un personaggio che aveva anche delle qualità era un buon giornalista un discreto avvocato che aveva vissuto anche l'esperienza della prima guerra mondiale in maniera dignitosa era un convinto nazionalista e arrivò all'appuntamento della dell'ascesa del del fascismo in maniera defilata senza troppi coinvolgimenti però essendo comunque un uomo di cultura o quantomeno che sapeva cioè non era un picchiatore non era uno di quelli che diciamo gli dava il manganello e andava a menare la gente era uno che in qualche modo sapeva usare la penna in maniera aggraziata l'opera di scurati e l'opera di scurati è un romanzo sono romanzi quindi diciamo che scurati sicuramente sa scrivere molto bene io non ho letto l'intera opera quindi diciamo ho letto dei pezzi e ho letto tanto sull'opera dico che può essere un elemento interessante per approcciarsi in maniera leggera in maniera diciamo introduttiva ecco alla figura di Mussolini però A non prenderei per oro colato tutto quello che scrive scurati B se uno vuole approfondire magari potrei iniziare a leggere scurati però poi magari inizio a leggere De Felice e poi inizio a leggere qualche altra cosa quindi diciamo dipende dal taglio che uno vuole se deve essere un mero intrattenimento va bene scurati se si vuole approfondire la realtà del fascismo per quello che effettivamente era o leggerei scurati e poi tante altre cose o scurati lascerei perdere iniziere a leggere De Felice nel senso che io sono dell'opinione che qualsiasi persona che si vuole approcciare alla figura di Mussolini e al fascismo non può che partire da De Felice poi De Felice scriva complicato che De Felice è pesante De Felice è infinito tra legge una pagina di scurati che si legge con piacevolezza e De Felice che è complicato però sono veramente cose completamente diverse quindi questo è l'elemento che mi sento di dire è un romanzo lo scrive pure sulle copertine è romanzo quindi diciamo racconta già che c'è molto di suo di sue cose che non è il vero ma è verosimile è come se uno vuole leggere vuole leggere la realtà del del 600 in Lombardia e legge Promessi Sposi sì Promessi Sposi è un bel romanzo racconta tante cose anche vere però non è non è tutto quello che diciamo come leggere un bel saggio sulla sulla Lombardia del 600 non leggere i Promessi Sposi detto questo tornando a Dino Alfieri Dino Alfieri quindi entra diciamo in punta di piedi nel fascismo e viene utilizzato per le sue capacità di divulgatore potremmo dire scrive bene viene inserito all'interno dell'istituto fascista di cultura per il quale inizia a realizzare diverse opere di divulgazione tra l'altro ne ho commentato la settimana scorsa proprio una sul mio canale e diventa il l'organizzatore il litiatore della cosiddetta mostra della rivoluzione fascista che è una mostra che venne organizzata per in occasione in attesa e quindi poi in occasione del decennale della marcia su Roma quindi sarebbe una mostra che doveva inaugurarsi nel 1932 che da temporanea poi divenne permanente venne a essere proseguita per tutti gli anni trenta e quindi questa attitudine di di Alfieri di essere una sorta di 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 PR ecco mi è passato il tema una sorta di PR del 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 regime fascista lo colloca in una in una situazione invidiabile perché poi appunto diventa prima sottosegretario diciano al ministero della stampa e della propaganda poi diventa egli stesso ministro prima della stampa e della propaganda poi dopo cambia cambia nome il ministero diventa della cultura popolare il cosiddetto minculpop per capirci e questa sua questa sua fisionomia lo rende sempre più addentro alle logiche del del partito nel suo caso era molto fumo e poco arrosto però Mussolini gli faceva comodo e anche Ciano soprattutto gli faceva comodo avere un personaggio di poco spessore morale ma grande capacità di relazione il punto è che finché si deve occupare di propaganda la propaganda è tutta fuffa e va bene così quando però poi dopo lo vorresti utilizzare proprio perché è manovrabile i ruoli un po' più delicati un po' più tecnici è diciamo che rischi che fai danni ossia per un breve periodo è stato messo a fare l'ambasciatore presso la santa sede però col fatto che l'ambasciatore presso la santa sede attendibile come l'autobresì infatti uno metti a fare l'ambasciatore presso la santa sede grosso modo l'ambasciatore presso la santa sede sta sempre a Roma in qualche modo lo tieni a Bada lo tieni a Balia e quindi in qualche modo va bene così ma quando poi nel 1940 lo mandi a fare l'ambasciatore a Berlino perché ci devi mandare uno che è a te fedele che non dà problemi e che non dà problemi neanche i tedeschi poi non ti puoi lamentare che per i successivi tre anni tu non c'hai un'ambasciatore a Berlino perché Dino Alfieri non era capace a fare l'ambasciatore a Berlino non aveva nessun tipo di autorevolezza di competenza di anche mestiere a fare l'ambasciatore perché era sostanzialmente uno che fino a pochi mesi prima l'avevi usato benino a fare l'addetto stampa promosso ministro e che finché faceva il ministro della cultura popolare andava pure bene ma ripeto se non mandai a fare l'ambasciatore a Berlino era un disastro era il gioco di Mussolini cioè cambiare ogni tot le posizioni perché una volta alzavi uno poi abbassavi l'altro sempre in questo gioco di bilanciamento affinché loro stessero diciamo alti sui tacchi a tentare di capito piedire il favore per ottenerlo per poi tornare giù per poi di nuovo riaspettare il loro turno lo faceva con grandi era la sua abilità era la sua abilità però come si suol dire come si suol dire le bugie hanno le gambe corte nel senso che alla lunga se poi mandi un fesso perché di tale di tale cioè non posso essere meno esplicito cioè Dino Alfiere era un fesso ma lo dicevano anche gli stessi tedeschi cioè io adesso vi leggo la frase che ho messo a inizio della Dino Alfieri allora una frase di Goebbels Goebbels diciamo che sapeva il fatto suo Alfieri è sciocco e privo di giudizio una vera e propria frana ormai anche a Roma si rendono conto che non è all'altezza del compito ecco questo ci ci rappresenta benissimo come Mussolini e Ciano avessero mandato un tonto cioè di meglio un inesperto un poveretto un timido un pusillanime ecco non so come altro definirlo come ambasciatore a Berlino e questo sostanzialmente fa il mestiere inizia a fare il mestiere che sa fare ossia quello di ricevere qualche informazione e mandarla a Roma perché lui era esperto a fare l'addetto stampa questo è sostanzialmente lui crede che la diplomazia si basa su intercettare qualche informazione fare un banchetto fare un ricevimento sì in tempo di pace si può fare ma in tempo di guerra che fa i ricevimenti con la lista della spesa cioè con i bombardamenti che ci stanno cioè col coprifuoco a Berlino quindi capite bene come eh sì io sono d'accordo che i festi obbedenti sono utili al palazzo il punto è che non sono utili alla nazione in guerra e qui ci troviamo di fronte a delle relazioni tra l'Italia credo che sia una critica al pusillane nel senso che non lo sentivano da da un pezzo capito un linguaggio un po' capito oggi oggi si direbbe ecco usiamo un termine moderno per definire uno come lui cringe so se conosci la terminologia cringe involontariamente diciamo che ti mette proprio in imbarazzo proprio una persona che non non sa stare proprio nel posto non sa gestire le cose si comporta in questo modo cioè è un personaggio assolutamente non non all'altezza un personaggio che lo hai messo lì perché è obbediente ma che allo stesso tempo però non ti è funzionale perché tu hai bisogno pure di una persona che in qualche modo abbia un minimo di iniziativa soprattutto perché ha a che fare con persone come come Ribbentrop con come Hitler stesso che un attimo questo lo mangiavano cioè lui gli facevano fare era capace che che Alfieri facesse ore e ore di anticamera poi quando era il momento su di parlare con con Ribbentrop o con Hitler gli sbraitavano addosso gli dicevano le truppe italiane non stanno facendo niente e lui non sapeva rispondere perché non sapeva neanche dove si combatteva e se ne tornava all'ambasciata e riferì a Mussolini non sono riuscito a parlare con Hitler e poi si prendeva le invettive pure da Mussolini e diceva ma come ma ti ho detto che tu devi parlare con lui non mi ha fatto parlare cioè tant'è che appunto racconta testimonianze memorie degli addetti all'ambasciata italiani all'ambasciata a Berlino e raccontavano come spesso da Roma chiamassero Ciano Mussolini e ci volevano parlare e lui si chiudeva nelle stanze dice no dite che non ci sono scappava per le scale dite che sono uscito perché si vergognava e non aveva non aveva il coraggio a un certo punto gli viene un esaurimento nervoso e sparisce se ne va a Capri due mesi per rimettersi perché c'era un esaurimento nervoso e voi immaginate a Berlino che manca l'ambasciatore perché è andato in vacanza due mesi a Capri non è una bella vita farsi urlare da Hitler e da Mussolini avrebbe comunque c'era sempre con l'esaurimento nervoso c'era uno stress accumulato che veramente ma chi glielo faceva fare vabbè l'unica consolazione è quando la sera del 24 luglio che lui avendo degli incarichi diciamo essendo stato nel frattempo equiparato a ministro era riuscito in qualche modo quindi riuscì nonostante fosse solo ambasciatore a far parte del novero dei membri del Gran Consiglio del Fascismo e quando arrivò la sera a Palazzo Venezia si trovò in mezzo con Bastianini che era tecnicamente il suo superiore perché Bastianini era il sottosegretario agli esteri e Ciano che in quel momento era ambasciatore presso la Santa Sede quindi diciamo che era equiparato allo stesso allo stesso Alfieri con lo stesso incarico e Ciano che non si faceva manca niente e faceva le battute anche a sproposito disse Alfieri allora che ci racconti dei tuoi amici tedeschi e viene riferito che che Alfieri avesse un po' stizzito avesse replicato a Ciano amici miei fino a prova contraria hai firmato te l'alleanza nel 39 quindi sono amici miei saranno amici tuoi quindi come non se le manda e Ciano ci rimane ma no ma era una battuta e c'era queste battute non le fare a me nel senso che tu non sai quello che sto patendo io a Berlino che mi ci hai mandato tu nel tre anni fa e tu te ne stai adesso a fare l'ambasciatore presso la Santa Sede quindi cambiamo bene pure che a un certo punto gli partiva come si dice a Roma la brocca e rispondeva a tono anche a a Ciano visto che in quel momento erano erano colleghi vabbè comunque ad ogni modo firmò anche egli aderì all'ordine del giorno grandi nella notte tra il 24 e il 25 di luglio del 43 però per ironia della sorte riuscì in qualche modo a dileguarsi dopo l'8 settembre qui stava a Milano e riuscì a riparare in Svizzera quindi nonostante venne anche egli condannato in contumacia alla pena di morte riuscì a scampare e dopo la guerra che ritornò in Italia non solo non venne sostanzialmente accusato o non ebbe procedimenti giudiziari a suo carico anche perché nel frattempo anche lo stesso Alcide Gasperi che nel frattempo oltre ad essere presidente del consiglio appunto dopo il 46 era anche ministro degli esteri per ora la causa di Dino Alfieri dicendo sostanzialmente non era un granché come esponente del regime non è che non valeva molto e di conseguenza non gli possiamo attribuire grandi responsabilità quindi anche in questa circostanza ci ha messo il carico sostanzialmente era un cretino quindi che cosa perché dobbiamo infierire su uno che alla fine era lo zimbello un po' di tutti quanti e quindi gli è andata bene quindi non solo si è salvato dalla guerra ma si è salvato anche da qualsiasi tipo di procedimento giudiziario della giustizia repubblicana e la lezione di oggi è essere stupidi ti può salvare la vita esatto e tra l'altro ottenne pure il reintegro nella carriera diplomatica quindi ottenne anche una pensione e finì la sua carriera e finì la sua carriera morì nei anni 60 e ebbe anche degli incarichi di natura di rappresentanza tipo fece il rappresentante di alcuni di alcuni organismi di commercio internazionale quindi diciamo continuò a ricicciare senza fare troppi nomi un gaspar delle giorni nostre sì esatto cioè comunque alla fine dove lo metti sta nel senso che lo puoi insultare lo puoi lo puoi veramente gli fai di tutto e di più gli viene ogni tanto gli viene una gastrite perché poi alla fine a forza di somatizzare sta male però alla fine con due mesi a capri in qualche modo se rimette in sesto e può tornare a prendere gli insulti da da qualcun altro però alla fine uno stipendio lo pigliava sempre quindi in qualche modo esatto un po' così esattamente senza fare altri ma perché poi dici perché parliamo del fascismo legato all'attualità cioè chissà perché si lega tantissimo cioè io in questi personaggi ritrovo tanti personaggi che vedo in Forza Italia che hanno girato per 20-30 anni che non si capisce perché non ci riusciamo a togliere diciamo che ci infiliamo in certi casini sì ma esatto il bello il bello non è tanto quelli di Forza Italia quelli che che stavano in Forza Italia e non li trovi con l'Italia viva o col PD capi cioè io io veramente beh questa è l'abilità italiana camaleonti guarda più di più di Follini io non capisco scusate più di Casini Follini cioè Follini che è stato il vice presidente del consiglio dei ministri sotto Berlusconi e poi è andato a fine col PD cioè io Marco Follini è un grande cioè è un è un mostro di bravura è stato il vice di Berlusconi al governo e poi è andato a fine col PD guarda veramente ci vuole un'arte sarà sarà stato allievo di di Alfieri guarda non lo so allora proseguiamo questo chi è è sempre lui con ah ecco qua sì 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 qualche addonata sì 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 perfetto me l'ero me l'ero perso vogliamo parlare di grandi facciamo i tre i tre diplomatici così chiudiamo i tre diplomatici di peso allora il primo è grandi allora i tre diplomatici io ho sintetizzato in questo blocco di biografie coloro che in qualche modo hanno determinato eh il l'apporto diplomatico eh dell'Italia tra gli anni trenta e gli anni eh gli anni della guerra gli anni quaranta e eh grandi rappresenta eh un personaggio veramente eclettico eh un personaggio che inizia la sua carriera su posizioni estremamente rivoluzionari nel senso che comunque ha delle posizioni eh miste tra il mazziniano e il repubblicano quindi diciamo che mh poi eh diciamo espressione di una eh di una realtà come appunto quella emiliano romagnola particolarmente effervescente e che si fa prendere dalle agitazioni sociali rivoluzionari cruente istituiamolo ti prego va benissimo è il primo va benissimo va bene sono d'accordo accettato mi piace mi piace lo istituiamo e però dobbiamo fare istituire anche il premio Costanzo Ciano eh premio Costanzo Ciano per i più arralazzivi cosa mi verrebbe mi verrebbe in mente eh quel quel ministro della eh vabbè lasciamo perdere mani in pasta io l'ho detto io l'ho detto Mastel Mastel ho detto non so come hai fatto a capire o me leggi le persone no vabbè ma perché queste cose le conosco quando mi dici ministro interlazione mani in pasta c'è paloni c'è paloni vabbè allora dicevamo ehm Dino Grandi quindi diciamo è l'espressione di una ehm sì è fino al 22 anche dopo il 22 però diciamo che è uno che menava eh cioè uno che diciamo che in qualche modo cioè le dava di santa ragione e che era l'espressione di un sì sì di una premio Canasci esatto di un atteggiamento veramente eh cruento eccetera ma tanto era eh cruento tanto era eh ruspante entrando anche in contrasto con Mussolini eh perché poi con Mussolini c'è sempre stato un rapporto abbastanza come è che diceva Malbo su Dino Grandi il contadino è diventato contedino eh ma infatti c'è una trasformazione impressionante perché la sua sicuramente guarda ti posso dire Dino Grandi secondo me è stato uno dei più intelligenti tra i gerarchi era una persona di grandi il suo problema era quello è che era intelligente e quindi rompeva le scatole e quindi lo si prendeva esatto buttava da un'altra parte esatto e quindi visse la sua eh la sua ehm parabola politica sapendo cogliere il meglio da quello che gli si offriva ehm a differenza di tanti altri no? che invece sapevano anche quando gli si metteva tipo un debbono no? eh un debbono lo mettevi nelle realtà coloniali che di cui che conosceva molto bene e riusciva a fare male anche anche nei posti dove in teoria avrebbe potuto fare bene invece grandi che passa dal sottosegretariato agli interni eh dove comunque non fa male perché sta sotto a Federsoni quindi ha un un ruolo ben eh ben importante in competizione con Farinacci che all'epoca era il segretario del partito quindi c'è una posizione anche diciamo autorevole di onestà intellettuale passami il termine però ovviamente lì è scomodo perché sta insieme a pure a Federsoni che sono tutti e due bolognesi tutti e due con un certo piglio indipendente e lo mettono a fare il sottosegretario agli esteri lui che di diplomazia non capisce nulla cioè nel senso non non se ne ha mai occupato che fa dice l'unico modo per emergere è impegnarmi in quello che devo fare mi hanno messo apposta qua un po' come 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 Balbo Balbo l'hanno messo a fare il sottosegretario e poi il ministro dell'aeronautica oh io mi interesso di aeronautica e lo faccio bene cioè non me ne sono mai occupata fino adesso iniziamo a studiare e applicarsi la stessa cosa grandi grandi inizia e diventa un grandissimo esponente della diplomazia italiana che riesce a capire le dinamiche che esistono scusate le dinamiche che esistono nelle relazioni degli stati stiamo parlando a cavallo tra gli anni 20 alla fine degli anni 20 e gli anni 30 in cui ci sono anche delle difficoltà oggettive nelle relazioni pensiamo appunto al graduale fallimento delle delle relazioni con la Germania e poi dopo con la salita al potere di Hitler lui era più filo inglese no? esatto tant'è che tant'è che appunto poi quando Mussolini lo toglie dal dal ministero della degli esteri e lo manda a Londra a fare l'ambasciatore cioè qualsiasi persona avrebbe detto beh lo hai depotenziato come quello era ministro degli esteri e lo hai retrocesso ad ambasciatore dice oh di necessità faccio virtù ma hanno mandato a Londra io comunque capisco che l'Inghilterra è un ambiente interessante è un ambiente funzionale ai rapporti con l'Italia e prosegue la sua attività anche di freno poi sicuramente era un grande paravento nel senso che era era uno che in qualche modo sapeva giocare con gli equilibri nel senso che fregava anche gli inglesi nel senso che raccontava una cosa agli inglesi e a Mussolini raccontava un altro e poi alla fine trovava trovava l'accordo grazie al fatto che aveva fatto credere a uno e l'altro cose diverse quindi diciamo era sicuramente un abile mediatore che fece anche del bene alla attività diplomatica italiana pensiamo come grazie a lui ehm l'Italia uscì inde abbastanza indenne dalle sanzioni ehm coincidenti con la la guerra d'Etiopia quindi diciamo il fatto che poi dopo anche dopo la guerra d'Etiopia si potesse recuperare dei rapporti molto cordiali pensiamo ai gentleman agreement con l'Inghilterra con una possibilità di trovare degli accordi effettivi non solo di forma eh tra il trentasei e il trentasette e il trentotto contra Londra e Roma quindi diciamo fu sicuramente molto abile ma anche molto pragmatico nel capire quello che era giusto fare cioè a differenza di Alfieri Alfieri non riuscì a capire cosa era giusto fare e faceva male quello che gli capitava invece no Grandi si metteva a tavolino e diceva secondo me l'obiettivo è quello cercava un modo anche arzigocolato ma poi lo raggiungeva perché diceva quello è quello che secondo me è il bene per il mio paese e per la collettività e questo ovviamente poi la politica estera italiana andrà verso un'altra direzione Mussolini anche in questo caso lei fu una grande sfiga per lui cioè il fatto che proprio nel momento in cui viene mandato a occuparsi dell'Inghilterra noi ci allineiamo dall'altra parte lui non riesce più a mediare la situazione esatto tra l'altro lui fu molto abile perché Ribbentrop fatto qui con Harrison Ribbentrop che verrà poi Ribbentrop farà il percorso inverso era ambasciatore tedesco a Londra e poi diverrà ministro degli esteri tedesco e Grandi studerà le sette camicie per cercare di impedire che Ribbentrop riesca a trovare un accomodamento stiamo parlando ancora del del 38 eh un accomodamento con Londra nel senso obiettivo di di Grandi era quello di creare un solido legame tra Roma e Londra e impedire che ci fosse un solido legame tra Londra e Berlino perché perché aveva capito che tra Roma e Parigi era impossibile perché Parigi aveva un governo radicale un governo di sinistra quindi era impossibile trovare un accomodamento tra Roma e Parigi se noi ci tagliamo fuori da un accomodamento tra Roma e Londra e magari ci sarebbe stato un accomodamento tra Londra e Berlino l'unica nostra sicurezza di trovare un accomodamento è con Berlino e lui non lo voleva fare perché appunto lui era anche perché se il re si ricorda bene era più filo francese che non filo tedesco allora sicuramente il re era contrario a Germania poi diciamo che l'elemento poi tra tra Gran Bretagna e Francia l'importante era non essere alleati con i tedeschi e questo è un elemento che troviamo anche in grandi e anche in balbo perché erano ti sei spiegato come siamo riusciti a finire con la Germania nonostante alcuni degli elementi più importanti cioè da re a balbo grandi lo stesso Ciano che nonostante sarà poi firmatario erano tutti i contrari è Mussolini stesso secondo te che ha più peso di tutto questo allora il problema è un problema di lungo periodo anche Von Mackensen il diplomatico tedesco in Italia era contrario alla guerra guarda il discorso nasce da più fattori allora inizialmente è un vortice nel senso che la guerra di Etiopia fa scivolare è un piano inclinato è un piano inclinato magari impercettibile nel senso che l'inclinazione non è così così repentina è evidente ma è costante muore il gruppo di Strese eccetera e lì Dino Grandi c'entra molto perché qui Dino Grandi è proprio dove dice agli inglesi occhio perché se ci fate troppe sanzioni troppo ostracismo sul nostro colonialismo inevitabilmente finiremo ma riesce a ricucire perché comunque gli accordi che ci sono tra la Bretagna e l'Italia tra il 37 e il 38 non sono di facciata sono effettivi il punto è che inevitabilmente e questo è parafrasando il detto la strada tra Roma e Berlino passa per Vienna di triplicistica memoria di fine ottocento la strada passa tra Roma e Londra passa per Parigi e visto che vi erano grosse difficoltà qui ci chiedono di ricordare Konstantin von Neuret perché anche lui si ma infatti Konstantin von Neuret viene liquidato e viene sostituito da Ribbentrop quel Ribbentrop che era ambasciatore ambasciatore tedesco a Londra che è il principale antagonista di Dino Grandi quindi questo tutto si tiene cioè praticamente questi equilibri sono degli equilibri instabili che ci evidenziano ancora più sostanzialmente la grande difficoltà dell'Italia nel collocarsi politicamente in Europa perché perché se tu hai come si dice se la tua politica estera dal 1919 in poi è stata smarcatamente anti-francese perché avevi il ricordo di Versailles eccetera eccetera perché era anti-francese e anti-yugoslava e gli ugoslavi quanto erano appoggiati a Parigi eccetera quindi tu inevitabilmente non ti saresti mai crollata l'ipotesi Lavalla nel 34-35 esatto quindi crollato gli accordi Mussoni-Lavalla e quindi nel 36 vi è un un indirizzo francese progressista che l'Italia non poteva accettare per n motivi nel frattempo hai dichiarato guerra all'Etiopia con dei problemi di tipo internazionale che in qualche modo grandi è riuscita a ricucire però nel frattempo c'è stata pure la Spagna la Spagna in cui tu però te trovi di fronte a una un'ostruzione contro le democrazie occidentali e l'unica via d'uscita dall'impasse Spagna è legarsi ancora di più alla Germania qui ci chiedono sbaglio stiamo continuando questa tradizione assolutamente sì se leggete questi libri o se guardate i video che abbiamo fatto anche sui generali così ci ritroverete tantissimo della nostra politica tanto che ogni volta che io leggo un tuo libro Giovanni ogni due pagine faccio cazzo ma questo io l'ho già visto questo è uno che abbiamo ancora oggi ci sono delle figure che sono quasi intercambiabili purtroppo le relazioni internazionali diciamo che le relazioni internazionali si basano essenzialmente su due fattori oggettivi ossia le forze armate e l'industria nel senso che tu sei appetibile a delle alleanze se hai delle forze armate adeguate e hai un'industria adeguata l'Italia perché io non voglio denigrare l'Italia sotto l'aspetto delle forze armate né tantomeno nell'industria però purtroppo rispetto ad altri paesi il fatto per esempio di non avere materie prime di non avere il petrolio di non avere il gas di non avere un di non avere le centrali nucleari sto sto generalizzando no? sto dicendo ti pongono sicuramente in difficoltà rispetto ad altri paesi che hanno questi questi fabbisogni già di base già assodati e che quindi tu sei appunto debitore nei confronti del gas russo cioè tu sei debitore sei sei legato al gas russo molto di più rispetto ad altri paesi come all'epoca dipendevamo dalle importazioni di carbone inglese esatto è un problema cronico di questo paese esatto quindi trovi di fronte a delle difficoltà in cui poi per carità anche la collocazione geografica da una parte aiuta da una parte non aiuta nel senso che sei la frontiera meridionale dell'Europa e quindi hai altre problematiche legate appunto alla necessità di basare molti dei tuoi spostamenti con il naviglio eccetera quindi diciamo si si sommano però non si risolvono perché poi il tessuto socio-economico grossomodo nei rapporti di forza è sempre lo stesso non è che cambia cioè la Francia ha un suo radicamento geostrategico economico che si basa ancora su relazioni preferenziali con gli ex paesi coloni l'Italia non ha relazioni preferenziali con nessuno perché l'italiano lo parliamo solo noi cioè mentre che so la Francia ha comunque già un bacino linguistico migliore la Spagna un paese torniamo a grandi comunque torniamo a grandi e quindi grandi diciamo pass 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 lo richiamano pure da Londra anche perché appunto ha esaurito la sua la sua la sua utilità per Mussolini a Londra viene richiamato in Italia e viene nominato contestualmente quasi contestualmente nuovo presidente della Camera dei Fasci delle Corporazioni perché abbiamo visto che Costanzo Ciano è morto e contestualmente anche ministro di Grazia e Giustizia voi direte io ci ho fatto anche un video sull'argomento che ci ha recuperato la cartellina firmata bella bella credo che sia con imperitura amicizia Dino Grandi a Giacomo vabbè uno Giacomo non so vabbè e e comunque diciamo prosegue la sua attività nel periodo bellico in questi due ruoli che hanno la funzione di moderatore nell'impianto legislativo ma in realtà come sappiamo durante la guerra la Camera dei Fasci delle Corporazioni conta come il due di di briscola quando due di coppe quando briscola e bastoni quindi Dino Grandi non ha la capacità di essere protagonista della scena né interna né estera quindi lo si ritrova come ben sappiamo nel corso della primavera del 143 in cui cerca di trovare una sponda nel re nel trovare una via d'uscita dal fascismo e dalla guerra l'esito della dell'ordine del giorno omonimo lo sappiamo tutti quanti ma vorrei in questa circostanza dare un peso minore Dino Grandi è un po' il megafono di un sentire più ampio non è lui l'unico protagonista dell'ordine del giorno grandi sai cosa è interessante di questa storia del rapporto eccetera che lui era convinto che lui lo appoggiasse invece non si rese conto che l'hanno usato sputato e mollato lì perché non era conoscenza dei piani di Badoglio del re eccetera loro praticamente volevano che partisse questo Dino Grandi per avere la scusa lui pensava di dover avere un posto importante come no come no e non ha capito neanche lui finirà in uno scantinato a Roma a nascondersi poi alla fine riuscirà a fuggire in 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 Spagna in Portogallo e diciamo che in qualche modo poi tornerà agli onori della cronaca italiana tornerà in ma scriverà molto scriverà molto e poi tornerà bene o male con grandi con grandi diciamo anzi no con poche recriminazioni come ti leggo nella mente eh Gio si infatti e quindi una figura di grande spessore di grande spessore anche anche morale permettetemi diciamo non 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 mi non esatto questo è un grande un grande libro che è ricco di tantissime di tantissimi spunti che io ho consumato per quanto quanto l'ho letto e quindi Dino Grandi veramente poteva essere una un'alternativa all'abbrutimento che il fascismo poi poi fu non che non che diciamo non che non che voglio dire che il fascismo potesse in qualche modo essere tanto diverso da quello che fu nella realtà però probabilmente la fine la fine del lo scivolamento definitivo nelle braccia della Germania la guerra eccetera un grandi fece molto fece cercò di fare il tutto il tutto il possibile per cercare di evitare di cadere in quel baratro però poi alla fine pure lui fu vittima e anche un po' diciamo il diciamo lo strumento di 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 tante altre dinamiche che appunto porteranno comunque agli esiti che sappiamo anche dopo il 25 luglio e dopo lo settembre ancora ancora di più passiamo a Galeazzo Ciano dai allora Galeazzo Ciano in parte ne abbiamo parlato parlando del del padre un un figlio di papà cioè non non c'ho molto da dire per la parte di sua un parvenuto sì un parvenuto nel senso che un 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 mediocre un un fighettino un un personaggio anche l'età ti trovi a 30 32 anni a fare sì per carità si è trovato nel posto giusto al posto giusto prima e nel posto sbagliato al momento sbagliato dopo nel senso che veramente ha avuto più dignità nella morte quello sicuramente quello sicuramente quello sicuramente diciamo che ha vissuto i appunto lui è morto a 40 anni no? se uno io penso appunto penso sempre io sto vivendo molto più di di Ciano e e questo mi fa riflettere no? su come la sua vita ha trovato la cartolina bella bella la sua vita particolarmente intensa ricchissima di 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 esperienze di di occasioni è stato appunto appunto nella carriera diplomatica ma perché era figlio del padre nel senso che c'è avuto una carriera spianata facendo anche il segretario vabbè è nato con la camicia sì è nato con la camicia il segretario nera nera ma camicia sì anche perché cercò in tutti i modi di far credere di aver partecipato alla marcia su Roma eh praticamente pagò con un attestato falso sì esatto pagò pure dei 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 testimoni falsi eh per 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 accreditare questa questa teoria eh riuscì essendo comunque mh pilota eh della della regge aeronautica anche lì riuscendo a ottenere il posto per meriti meriti eccezionali perché sappiamo come essendo l'aeronautica la forza armata diciamo di più fascista c'era un titolo preferenziale per riuscire a fare a divenire eh ufficiale di complemento nella reggia ehm aeronautica e quindi diciamo in qualche modo facendo delle azioni abbastanza ordinarie in Etiopia a rischio zero eh sì a rischio zero esatto sfruttando molto alcune hanno rischiato sì sfruttando soprattutto il i meriti di 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 muti come abbiamo detto eh e tornò un carico di medaglie per aver mitragliato quattro sassi eccetera e e appunto la sua carriera poi fu sfavillante da ministro della della stampa e della propaganda poi divenne appunto ministro eh degli esteri nel nel trentasei e lì diciamo che si consuma nel breve volgere di di pochi anni eh il la completa al completa asservimento al suocero nonostante la moglie che molto spesso la moglie Edda portava i calzoni nel senso che Edda era molto più saggia eh di lui nella valutazione della realtà generale e anche soprattutto nelle relazioni con con Mussolini nel senso che Edda cercava spesso di di infondere una dignità nel marito anche una dignità di resistenza di fronte alle angherie alle prepotenze che Mussolini padre Benito faceva ma ormai eh diciamo che Galeazzo era un po' era un po' ehm schiavo del proprio ruolo del proprio ruolo che tragica anche la parte finale dove la molle tenterà di nonostante lui l'abbia tradita dicimila volte di eh parlare con Mussolini mediare consegnare i diari in cambio della sua vita ma i tradimenti i tradimenti erano reciproci e quindi diciamo non 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 c'era non c'era non c'era era un po' era un po' un tacito accordo che avevano una vita libertina eh ciascuno per proprio per proprio conto eh il punto è che comunque c'era vero amore nonostante tutto ci fosse vero amore e lei veramente si sforzò fino all'ultimo di riuscire a salvare eh il il marito ehm sì effemminato sì diciamo allora aveva dei gusti da un po' da dandy no? che appunto gli amava amava il teatro amava le pulsiche esatto c'aveva questo atteggiamento com'è che diceva Dino Grandi lui cammina come uno mo guardatemi esatto sì 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 guardate che passo guardate che passo sì sì c'aveva questo atteggiamento poi c'aveva questa voce eh così gracchiante fastidiosissimo quindi cioè poi camminava eh tipo con me con mezzo con i piedi piatti quindi era sgraziato e questo secondo me era dovuto anche a questo quello che dicevo prima un rapporto molto conflittuale con i genitori c'aveva da una parte il padre autoritario severo eh che ehm praticamente gli negava qualsiasi tipo di affetto e dall'altra parte invece una madre molto affettuosa molto più comprensiva molto più e quindi lui viveva contemporaneamente da una parte il desiderio di amorevole di questa madre che appunto lo coccolava eh lo rendeva felice visto che lo ha esplicato no? per dare un'idea perché magari noi diamo per scontato questa è la voce per dare un'idea ciao bello anche io no te no le donne a caccia li porto a caccia e poi dopo scendiamo e ripartiranno per l'Italia con il conte rosso che parte da qua ai primi alla fine di settembre dove? questo è il programma non ha una bellissima voce anche la risata no ma tra l'altro tra l'altro se lo vogliamo vabbè se avessimo tempo dopo si vede un pezzo in cui praticamente Edda ironizza sul fatto che stanno venendo male in questo in questo film in questa ripresa non dice aspetta aspetta fammi commentare in cui dice beh stiamo facendo una figura non 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 delle migliori allora dice beh però anche il video che ci hanno mandato da Roma non è che hanno fatto una bella figura tranne tuo padre tuo padre è stato bravissimo cioè un lecchinaggio assoluto sentiamola stupenda cosi che che Edda non accetta e poi adesso cosa si fa adesso andiamo sopra basta non è che la fare perché basta mandate un saluto tutti quanti salutiamo anche mio salutiamo anche mio mamma maria maria si è un volontario adesso salutiamo ma no adesso i magistrati bisogna riconoscere che noi stiamo malissimo davanti all'apparecchio cinematografico ma però ci salva il fatto che anche il film che ci hanno mandato loro da Roma tranne tuo padre tutti gli altri hanno fatto una pessima figura come attori quindi siamo a posto anche noi adesso quello che sarà più disinvolto di tutti sarà Fabrizio vi invitiamo a vederlo nudo nel bagno che voce no esatto tutti hanno fatto una pessima figura tranne tuo padre quindi è veramente anche quello riesce a essere Lecchino comunque dicevo un personaggio purtroppo anche questo specchio dell'Italia di un'Italia che in qualche modo fa carriera grazie al sotterfugio fatto alla clientela all'amicizia alla parentela eccetera eccetera il problema è che poi nei suoi diari egli esprime una un'incapacità di rendersi veramente responsabile delle proprie azioni cioè nei suoi diari continuamente si lamenta che le cose vanno male che i rapporti con i tedeschi che i rapporti con i tedeschi vanno male che Mussolini è troppo debole con Hitler però veramente lo sta scrivendo il ministro degli esteri cioè io dico cioè tu sei allora leggi questa scusa Giovanni leggi questa ed era veramente aspetta aspetta voi capisci com'è fatta l'Italia vabbè decidetemi ragazzi c'è degustibus degustibus come si dice non è bello se non è bello quel che è bello figuriamoci quello che è brutto cioè il senso che quindi quindi dipende dai a parte che ci sono delle foto in cui Edda è molto molto graziosa sono delle foto lì nel video non si poteva guardare nel senso che c'era dei capelli sembrava che c'era un mociovilleto in testa nel senso che in altre qui con sto baschetto un po' ci sono delle foto in cui sicuramente Edda è più fascinosa vabbè qua sembra una mezza monaca non lo so vabbè ad ogni modo vabbè quindi Ciano è questo personaggio che purtroppo non è talmente schiavo del suo personaggio che non non riesce a esprimere veramente se stesso probabilmente perché appunto per queste sue anche difficoltà familiari giovanili infantili vivere sotto dietro l'ombra del padre un padre così ingombrante io non penso che sia stato un grande problema per 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 Galeazzo Ciano nel senso che aveva sempre il complesso di inferiorità il fatto di dover rendere conto a una ecco questa qui appare molto interessante una bella donna qua poi per carità è una foto da posa tutta chittata col capello fatto col trucco eccetera eccetera diciamo nella quotidianità domestica immagini con la cosa con le ciabatte e con la vestaglia diciamo vabbè ma non è nemmeno Uchina di Fantozzi no 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 per carità di Dio e quindi tornando a Ciano e quindi un personaggio che fu schiavo del suo del suo ruolo della sua della fisionomia che si è andato costruendo spesso artificiosamente capace di lamentarsi senza poi in realtà avere il coraggio di delle proprie delle proprie scelte quindi è facile dire beh firmo il patto d'acciaio ma non ne sono convinto però lo stai firmando te non è che sta firmando un altro cioè poi non puoi andare veramente da Dinal Fieri non puoi andare da Dinal Fieri e dire allora che ci racconti i tuoi amici tedeschi e qui amici miei veramente firmavo te l'alleato ma in questa foto ci sei te esatto io vorrei farvi notare una cosa notate vabbè Mussolini che sempre no così Ciano che non si sente molto a suo agio notare Hitler è l'unico che guarda in camera si si esatto sfonda la quarta parete ma magari c'erano altri fotografi e Mussolini stava guardando un altro fotografo non lo so Hitler facci caso in quasi tutte le foto non lo trovi mai che sguarda a caso cioè sapeva benissimo dove dove stare dove porsi è una cosa che ho notato nelle foto che girano su su Hitler rispetto agli altri aveva bene l'idea del non lo so forse perché era un artista anche se un artista semi fallito aveva un po' di occhio diciamo della posizione dove stare in una foto la prospettiva vabbè diciamo abbiamo detto grosso modo tutto diciamo morì con più dignità e più rispetto di se stesso rispetto a come aveva vissuto diciamo questa è la la sintesi perfetta di un di un'esistenza purtroppo anche in questo caso tipicamente italica chiudiamo questa foto è abbastanza questa foto è abbastanza interessante perché c'è Mussolini che sta facendo i suoi affari così c'è Cian veramente lì che aspetta aspetterà tutta la vita per niente praticamente tra l'altro Mussolini con una impeccabile uniforme modello 1140 da primo maresciato dell'impero io che sono un uniformologo cioè c'è l'uniforme dell'esercito non sta in camicia nera in orbace quindi evidentemente doveva fare qualche lui che sta della marina no lui è del ministero lui questo è un uniforme ministeriale si si è un uniforme da ministro vedi fate caso lui guarda l'altra parte lui è Hitler perfetto si sa sempre dove guardare fateci caso la troverete in tantissime tantissime foto questo questo discorso quella di prima probabilmente era del 39 perché c'ha il lutto sul bavero probabilmente quando è morto il padre probabilmente così quella 3 qua vedi che c'ha sul bavero una fascia nera lì ecco lì quella cosa nera lì probabilmente era il lutto del padre quindi magari questo è il 39 vabbè così giusto per un particolarità di occhio insomma occhio clinico allora bastianini un altro personaggio particolarmente curioso un uomo che io ho definito un grandi in sedicesimo nel senso che ha svolto in momenti diversi grossomodo con la stessa stile e professionalità con cui li aveva svolti grandi perché lui tra l'altro fu ambasciatore a a Londra nel periodo successivo di grandi fino al 10 giugno 1940 poi dopo quella dichiarazione di guerra dell'Italia alla Gran Bretagna vennero rimpatriati praticamente fecero una sorta di scambio come scambio di prigionieri fecero lo scambio dei degli ambasciatori praticamente una nave inglese portò tutto il codazzo dell'ambasciata italiana a Londra a Lisbona e una nave italiana portò tutto il codazzo dell'ambasciata inglese a Roma a Lisbona poi vennero scambiati i passeggeri quindi la nave inglese caricandosi il codazzo dei dei diplomatici li riportò e quella italiana li riportò a Roma e poi fece anche il sottosegretario agli esteri Bastianini dopo dopo che venne defenestrato Ciano nel febbraio del 43 quindi fu l'ultimo l'ultimo ambasciatore l'ultimo scusate l'ultimo sottosegretario del del ministero degli esteri del governo Mussolini fino al 25 di luglio Bastianini ebbe un senso molto della moderazione ecco perché l'ho messo tra i diplomatici perché aveva una capa nonostante pure lui fosse comunque un esponente tipico del fascismo del fascismo anche locale lui era era Umbro era di Perugia e fu molto importante anche nell'organizzazione della marcia su Roma quindi ebbe un ruolo importante notevole nella attività che precedette il 28 il 28 ottobre del 1922 ma a differenza di molti altri gerarchi ebbe anche lui la capacità di fare di necessità virtù perché quando fu sostanzialmente estromesso da incarichi di vertice all'interno della filiera del del partito venne designato come responsabile dei fasci all'estero e questa cosa parallelamente a quello che fece grandi come prima sottosegretario e poi come ministro degli esteri lo portò a specializzarsi quindi a capire come un ruolo diciamo tecnico potesse essere funzionale a un a uno sviluppo della propria carriera professionale tant'è che questo ruolo poi lo porterà a farlo divenire proprio ambasciatore lui fu attraverso una gradualità tra le varie esperienze fu anche delegato d'ambasciata in in Marocco e poi fu in in Portogallo e poi divenne per un lungo periodo ambasciatore a Varzavia che potrà sembrare un ruolo secondario però in realtà come tu sai bene la Polonia cioè negli anni trenta almeno nella prima metà degli anni tre anni trenta era un luogo particolarmente importante proprio perché era nello stesso periodo in cui l'alleato maggiore di contenimento per la Germania insieme alla Ciro a maggior ragione perché proprio nella prima metà degli anni trenta fino alla guerra d'Etiopia nello stegno negli stessi anni in cui Hitler saliva al potere e rafforzava il proprio potere in Germania quindi diciamo come ambasciatore italiano a Barsavia diveniva veramente un po' il centro di di interessi che tra la triangolazione per coprire la Germania e mezzo francesi inglesi polacchi noi tutti a fare muro esattamente quindi fu in qualche modo insieme a grandi che stava a Londra un perno imprescindibile di una certa politica pre Galeazzo Ciano quindi prima del 36 di grande interlocuzione appunto ancora quando le prospettive di una scelta di campo che appunto poi si sarebbe dopo la quella del periodo parliamo del gruppo Stresa parliamo di quando Mussolini mandava le divisioni al Brennero di quando eravamo amicizi con Don Nel 34 quando ci fu il fallimentare patto a 4 che fu un fallimento però che era ancora un elemento una possibilità di che l'Italia potesse determinare in qualche modo non solo una propria collocazione accettabile che potesse essere determinante e quindi non stare al traino ma a trainare essa stessa la scena internazionale ma anche proprio di peso politico nella costruzione di possibili alleanze no Prisulski era morto c'era Riz Smigui in quel periodo Prisulski ce l'ha già salutato e quindi dicevo Bastianini riesce in qualche modo ad accreditarsi come un personaggio di grande levatura culturale morale e di veramente servizio per un qualcosa che non fosse legato ai singoli interessi nazionali ma che in qualche modo potesse fare anche il gioco di un disegno molto più ampio sta di fatto che anche egli come dicevo ebbe delle difficoltà di autonomia tant'è che quando Galeazzo Ciano venne chiamato a fare il ministro degli esteri richiamò a Roma Bastianini e lo incaricò come sottosegretario agli esteri quindi divenne sostanzialmente il vice di Ciano però il vice di Ciano non con competenze vicarie non è che faceva il sostituto di Ciano faceva semplicemente il burocrate il massimo burocrate del ministero quindi si occupava di promozioni di cose di un certo rilievo ma prettamente burocrate quindi è una realtà che sostanzialmente lo ingabbiavano in questa situazione ma lui appunto si sentiva stretto di questa realtà e quindi cercò di riallocarsi in una realtà un po' più confacente un po' più determinante nel panorama internazionale e riuscì a ottenere tra il 39 e il 40 l'incarica appunto di ambasciatore a Londra però sappiamo bene quando già la realtà delle cose era già bella che è decisa nel frattempo c'era stata l'avvicinamento alla Germania la firma del patto il patto d'acciaio quindi in qualche modo un bastianini a Londra tra il 39 e il 40 non poteva contare molto tant'è che appunto come dicevo è stato poi rimpatriato al momento della dichiarazione di guerra italiana alla Gran Bretagna il periodo successivo fu alterno nel senso che il successivo incarico di rilievo fu nel tra il 1942 e il 1943 come governatore della Dalmazia che potrebbe sembrare un ruolo marginale ma in realtà marginale non lo era affatto per qui e con la valla e notare ti ritorno a quei discorsi che ti dicevo prima fateci caso la valga da una parte basti è sempre perfetto sì e e quindi come governatore della Dalmazia iniziò a interessarsi di problemi di grande importanza perché appunto sappiamo come la Dalmazia aveva una realtà politica frammentata con una teorica dipendenza dell'Italia ma poi in realtà c'erano una serie di stratificazioni anche con parte di occupazioni tedesche quindi con una certa ingerenza nelle faccende anche di politica interna pensiamo appunto e in questo caso sì 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 i diplomatici c'erano come no anzi diciamo che in tempo di guerra in tempo di guerra i ambasciatori erano relativamente pochi all'estero erano soltanto nei paesi alleati e alleati dell'Italia nel senso il tripartito e in quelli neutrali quindi diciamo ovviamente gradualmente si era perso l'ambasciatore a Parigi l'ambasciatore a Londra l'ambasciatore a Mosca l'ambasciatore a Washington quindi sì sì come le relazioni erano erano dirette qui dicevo Bastianini nel proprio ruolo di governatore della Dalmazia ebbe una grande importanza nel frenare soprattutto le dinamiche di oppressione di prepotenza dei tedeschi poi per carità il regime di occupazione della Dalmazia fu feroce anche per gli italiani quindi diciamo che dopo la guerra ebbe una serie di recriminazioni da parte del governo iugoslavo che colpirono anche Bastianini però diciamo che in qualche modo non fu un feroce governatore tant'è che si spese anche per cercare di limitare le azioni più cruente dei croati che in qualche modo cercavano di allargare i propri i propri domini e anche degli stessi tedeschi pensiamo alla difesa almeno parziale o quantomeno il tentativo di creare dei presupposti diciamo di garanzia nei confronti per esempio delle minoranze soprattutto degli ebrei quindi diciamo Bastianini e questo lo rese molto in viso ai tedeschi tant'è che lo stesso Ribbentrop definì Bastianini come un ebreo onorario perché appunto si era speso fino alla guarda che ti ho trovato il video dei Bastianini che lasciano l'Inghilterra ecco ecco sì bello che vanno un po' sulla nave vediamo un po' io l'ho letto nelle sue memorie questo non ho mai visto questo video io quello che ecco quello che ve l'ho raccontato ve l'ho raccontato perché ho letto le sue memorie è questa nave che appunto li porta a Lisbona e poi a Lisbona c'è questa sorta di scambio quindi la nave italiana che scarica gli inglesi e carica gli italiani e viceversa la nave inglese che si ricarica gli inglesi e se li porta in Inghilterra quindi Bastianini inizia nel periodo della Dalmatia quando è governatore della Dalmatia una sua reciproca e rafforzata antipatia nei confronti dei tedeschi una reciproca e costante antipatia che si va a confermare dopo il febbraio del 1943 quando torna a Roma prendendo il posto di Ciano come responsabile del Ministero degli Esteri solo che l'unica differenza è che in questo caso la titolarità del Ministero viene ripresa da Mussolini quindi Bastianini è sottosecretario agli Esteri con funzioni facente funzioni però in questo caso appunto ebbe grosse difficoltà con Magensen l'ambasciatore a Roma con Ribbentrop con lo stesso Hitler tant'è che il periodo in cui fu sottosegretario agli Esteri ossia dal febbraio a luglio del 1943 fu un continuo tentativo anche all'indirizzo soprattutto di Mussolini e in questo ebbe in parte Manforte con Vittorio Ambrosio divenuto nel frattempo capo del Stato Maggiore generale parteciparono entrambi all'incontro a Kassheim vicino a Salisburgo nell'aprile del 1943 in cui sostanzialmente l'Italia era l'atrice di un tentativo di trovare una via di uscita alla guerra ma Hitler come al solito era perentorio e non voleva né chiedere un armistizio un modo di un modus vivendi con l'Unione Sovietica né tantomeno chiederlo ai alleati occidentali quindi si arrivò sostanzialmente al 24 al 25 luglio con un nulla di fatto anche con i successivi incontri che ci sarebbero stati e che in qualche modo furono improduttivi Bastianini arriverò pure lui con il desiderio di trovare una via d'uscita alla li ha mai letti? no questi non li ho letti no sono le trascrizioni dei suoi discorsi eccetera no intanto li puoi trovare ok e e quindi arrivò il 25 luglio quando votò votò a favore dell'ordine del giorno grandi si dimise dal cioè si dimise diciamo era inevitabile che potesse lasciare il ruolo di sottosegretario agli esteri e venne ipotizzato uno scambio con Raffaele Guariglia Raffaele Guariglia che era fino a quel momento ambasciatore italiano ad Ancara e Raffaele Guariglia divenne ministro degli si ministro degli esteri e Bastianini sarebbe dovuto andare a fare l'ambasciatore in in Turchia poi in realtà non 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 ci va e e riesce poi dopo a dileguarsi dopo l'otto settembre in qualche modo si è dato la macchia ecco si diciamo allora sai dopo l'otto settembre la situazione è questa che si divide in tre blocchi quelli che in qualche modo hanno hanno un ruolo o vengono o si escono a scappare o si nascondono o aderiscono alla Repubblica Sociale Italiana però aderiscono alla Repubblica Sociale Italiana quelli che hanno i pochi che hanno votato contro l'ordine del giorno grandi oppure non ricoprivano in quel momento degli incarichi che quindi non si erano dovuti esprimere con l'ordine del giorno grandi oppure quelli che vengono presi tipo un De Bono tipo un un Cianetti tipo un un Ciano che fanno la fine del topo e qui vengono vengono arrestati dalla Repubblica Sociale A me piace tanto la frase finale di De Bono non muoio 68enne mi fregate per poco sì ma è ovvio è ovvio che in quel caso la morte è una morte inutile e questo sostanzialmente poi è la spiegazione del processo di Verona il processo di Verona mi è capitato di ricordarlo proprio qualche giorno fa in cui Balbo Balbo Ciano erano loro i più sì diciamo che anche Balbo anche Balbo secondo me era un grande un grande trascinatore però secondo me non aveva tutte le capacità per poter fare il capo del governo capisci però troppo sanguigno troppo esatto allora Mussolini possiamo dare tutte le accuse del mondo cioè non posso essere io a difendere Mussolini gli attribuisco un merito se di merito possiamo parlare e che aveva la capacità di reggere in equilibrio tutti sei riuscito a reggere vent'anni vent'anni con un covo di di ladroni di imbroglioni di arruffoni come questi di cui stiamo parlando beh delle capacità ci vogliono riuscendo in qualche modo anche ad accontentare un po' tutti quanti con le lusiche questo lo diceva no? lo diceva anche Montanelli cioè bisogna dare credito nel senso quando arrivò Mussolini fece ordine sì 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 i misteri non funzionavano arrivò lui esatto Falato lo fece non solo con la riforma di Rocco no? eccetera i codici eccetera ma anche prendendo nella prima fase cioè parliamo del Mussolini restauratore no? anche prendendo quello che c'era di meglio non solo dal mondo fascista prese il giovane Menichella no? ed altri per fare sì il senso che Mussolini erano fascisti o non fascisti prese i migliori poi dopo come dici giustamente te per vent'anni ha dovuto fare il gioco delle tre carte con tutti questi personaggi qui che non è uno scherzo eh trovarsi una valanga di personaggi di questo tipo se poi se poi basiamo basiamo il suo un giudizio sui risultati che ha portato avanti indipendentemente dall'elemento morale io non sto giudicando sull'elemento morale l'elemento morale è criticabile sempre qualsiasi goccia di sangue qualsiasi percossa qualsiasi uccisione imprigionamento è da condannare quindi diciamo sull'aspetto morale perché qui Ponzi è perfetto quindi dice le purghe no non sono purghe alla Stalin o alla I3 sono promozioni degradazioni cambi di posto esatto dei ricatti continui in cui dice quello che a te ti ho promosso però sappi che per promuoverti ne ho puniti i dieci e tu potresti fare la fine di quei dieci se non fai quello che dico io è ancora più perfida la cosa perché in qualche modo tiene in scacco un intero in un intero sistema che deve fare quello che dice lui il problema però poi alla fine della fiera è che anche per proteggere se stesso cioè appena un grandi si dimostrava troppo abile veniva richiamato appena un balbo si dimostrava un po' troppo però il punto è che la politica di Mussolini è una politica autoreferenziale che non porta a un risultato di efficienza o di efficacia perché appunto siamo arrivati al 40 che le forze armate erano impreparate che non avevamo un apparato industriale preparato e cioè tutte queste abbiamo scelto sbagliato l'alleato perché comunque sì era un alleato cioè era potente in maniera effimera eccetera eccetera quindi l'obiettivo era durare era un potere autoreferenziale il cui unico obiettivo era quello di reggere se stesso che appunto poi alla fine c'è riuscito perché poi alla fine il fascismo è crollato lui è crollato e fino a tutto quanto abbiamo girato pagina non è che ha creato i presupposti per un suo successore non c'era un successore lui non l'ha mai voluto un successore quando lui istigava qualcuno e li metteva a zuffati uno contro l'altro non era funzionale perché in realtà lui contava che Costanzo Ciano oppure Balbo oppure Galeazzo Ciano potesse essere un suo sostituto un suo successore lui il successore non lo voleva perché probabilmente lui non era convinto che il fascismo potesse sopravvivere a lui stesso perché lui era convinto che solo lui avrebbe gestito bene il fascismo perché il fascismo era autoreferenziale punto hai una critica se si prende una discussione ma io allora io sono d'accordo non sto dicendo che tutti tutti erano responsabili allo stesso modo ci sono delle persone che lo erano meno sta di fatto che anche un gentile se non si è arricchito a livello economico aveva sicuramente degli altri interessi interessi di gratificazione personale di riaffermazione personale pensiamo appunto come la biografia l'intera biografia di su Evola non sono preparato mi devo preparare oggi non sono preparato non ho fatto poi ragazzi sono già due ore e mezzo fra quattro minuti non sono non sono non ho fatto degli studi approfonditi su Evola però se volete ne potremo parlare poi come dicevo di gentile e ne parleremo di gentile perché è uno delle biografie che ho trattato in questo in questo mio libro devo dire che gentile la cui vita è un continuo scontro incontro con croce per dire beh croce soccombe almeno nel periodo fascista gentile va avanti perché ha una sua idea e però gentile nonostante i suoi proclami con sulla concordia nazionale crea un casino nella Repubblica società italiana il fatto di non abbiurare il fascismo anche durante la Repubblica società italiana il fatto di porsi come l'atore della rinnovata alleanza con la Germania è di per sé stessa una contraddizione in termini del proprio della propria esperienza di intellettuale questo è quello che cerco di dire nel senso che non tutti hanno portato avanti la loro adesione al fascismo per mere per mere guadagni economici magari c'erano altri tipi di guadagni che erano guadagni di sopravvivenza per essere per essere riconosciuti perché magari appunto quanti intellettuali il fatto adesso voglio fare un discorso gentile e ne parleremo per esempio ha protetto nella sua vita alcuni intellettuali ebrei nel senso che dice secondo me questo questo intellettuale nonstante sia ebreo merita qualcosa quindi mi fa piacere proteggerlo quindi lo aiutava quindi è una cosa positiva sì è positiva ma il concetto è difendere l'ebreo perché è intellettuale significa che tutti gli ebrei che non erano intellettuali erano mondezza e era giusto perseguirli quindi il concetto di gentile non era difendere l'uomo l'essere umano essere l'expertise non è che il mio senso morale mi porta a riconoscere l'altro come depositario di dignità e di rispetto in quanto tale e questo è l'intellettuale l'integrità no io difendo quello perché è un intellettuale nonostante sia ebreo quindi vuol dire che tutti gli altri che non erano intellettuali possono essere perseguiti tanto chi se ne frega solo gli intellettuali hanno un merito gli altri chi se ne frega quindi questo è quello che dico nel senso che l'elemento secondo me abberrante di ciascuno per proprio conto per propria responsabilità di questi personaggi e che hanno anteposto un interesse che possa essere economico possa essere di potere possa essere di orgoglio personale possa essere per andare a letto con qualcuno eccetera eccetera quindi diciamo un antisemitismo gentile dai eh sì diciamo così come preziosi diciamo sono delle persecuzioni preziosi quindi diciamo sui giochi di parole possiamo aprire dei capitoli o come chiudere così intanto ne parleremo la prossima volta c'era a proposito della della legge acerbo legge acerbo di cui parleremo una legge diciamo che ha la cerba ecco esatto no no ma il bello è che quando siamo ormai su giochi di parole no quando negli anni 50 negli anni 50 venne approvata quindi in epoca repubblicana la cosiddetta legge truffa che in qualche modo assomigliava un po' alla legge acerbo ma che non poi non può garantì gli effetti tant'è che poi venne tolta c'era una vignetta della democrazia cristiana che rappresentava il l'uva e la volpe no la volpe e l'uva dice che la volpe che non riusciva a raggiungere l'uva diceva che era era acerba e quindi c'era questa questa questo questa volpe che aveva la 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 coda con la falce e il martello che si lamentava della legge truffa e non ci poteva arrivare perché non poteva raggiungere il cuore il limite e diceva è acerba nel senso richiamandosi al discorso quindi diciamo sui giochi di parole potremmo stare qua fino a domani e se potremmo esaurire tanti discorsi vigna faccio più hai voluto la bicicletta mo pedali ma capito no abbiamo abbiamo fatto poi vedremo metà novembre giù di lì faremo l'ultimo l'ultimo passaggio e poi magari ci ribechiamo per altre cose io me lo stavo io me lo sono letto in albergo mentre ero a Bari quindi ho avuto un po' un po' di tempo marchette on the road così anche perché la ragazza me l'ha regalato proprio a Bari quindi ce l'avevo lì mentre tornavo in aereo lo leggevo anche soprattutto in aereo tornando quindi ve lo consiglio perché ricordate ti senti un po' balbo ti senti un po' balbo sull'aereo sì parlato leggevo proprio di balbo perché ovviamente che fai vai prima sui personaggi più importanti te lo dico io non l'ho letto in ordine in ordine di quelli che mi interessavano di più a me che è infatti il sistema che faccio vedere cioè il sistema di come sono divisi capitoli così letteralmente uno può leggere questo libro anche personaggio per personaggio quindi questa cosa è abbastanza comoda soprattutto se viaggi magari non hai il tempo di leggere tutto ma ti puoi leggere balbo ciano cosa del genere quindi io ve lo consiglio tutti quanti il link è in descrizione io non ci guadagno assolutamente niente anzi a proposito poi parliamo di queste cose no io lo faccio io ci guadagno un euro lord a copia a copia non si mangia molto coi libri vi posso dire che forse guadagno di più se vi iscrivete al mio canale se vi iscrivete al suo canale probabilmente farà di più con i video poi se vi iscrivete al canale e comprate il libro vi ringrazio proprio su tutta la linea pure meglio eccetera no io lo dico sempre perché ora le case editrici cominciano a mandarmi libri dicendo il professore X vorrebbe venire no e queste cose qui ma io l'ho sempre fatto cioè qualcuno mi hanno anche offerto di pagarmi io ho detto no io l'ho sempre fatto perché ho piacere a fare divulgazione sui libri eccetera non è che si deve pagare per venire o cose anche perché posso dire che io ero ospite del tuo canale quando ce va 5.000 iscritti quindi diciamo che ho un diritto di prelazione capito di prelazione su tutto quando in diretta c'erano 30 persone 40 persone capito sì 40 100 120 insomma le cose sono cambiate ecco tutto merito onesto e meritato quindi diciamo tanto di cappello tutto sudore allora io ringrazio tutti quanti ringrazio tantissimo Giovanni Cecini e ci aggiorniamo nei prossimi giorni grazie grazie ancora grazie per chi ha resistito due ore e mezza di miei ghiacchiere no guarda sono andati salendo quindi si vede non so l'orario la cosa comunque andate a dormire andate a fare qualcosa di utile ricordate che la cultura fa sempre bene e dormite sereni la prossima volta su Parabello notte a tutti